Intanto vi ringrazio per essere presenti, avremo modo stamattina di approfondire la tematica degli ATC con gli amici che sono venuti dalla penisola che potranno portare la loro testimonianza in merito a come e quanto si vive negli ATC. I relatori, ho chiesto a loro di essere un po' concisi, un po' brevi tra virgolette perché vorremmo dare spazio al dibattito dove ognuno di voi, non dico può ma deve intervenire per fare tutte le domande possibili affinché si tolga ogni dubbio. All'interno della cartellina che vi abbiamo consegnato c'è un opuscolo nel giornalino dove ci sono varie esperienze dell'ATC vissuti nella penisola. Leggeteveli con calma, se volete possiamo anche approfondire dopo, abbiamo fatto la registrazione dove mi immagino e spero che abbiate lasciato l'indirizzo di poste elettroniche in modo tale che possiamo aggiornarvi costantemente. E niente, poi passo la parola al nostro segretario regionale Romano Corrias che presenta a sua volta Ignazio Tolu. Buona convegno a tutti. Un ringraziamento a tutti quanti. Oggi si parlerà di ATC, ambiti territoriali di caccia. un argomento molto controverso, pochi ne hanno capito il significato. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza, gli amici della penisola a cui va il nostro personale ringraziamento ci daranno una mano, cercheremo di fare chiarezza. Così se dobbiamo morire moriremo combattendo e poi chi vivrà vedrà. Un grazie a tutti. Allora, Ignazio Tolu. Dov'è? Che non lo conosco. Piacere è mio. Prego. Beh, intanto un ringraziamento dell'invito agli organizzatori di questa bella manifestazione, in particolare vorrei ringraziare Marco Ifiso Pisano che mi ha invitato personalmente. un cordiale saluto a chi arriva da più lontano e a tutti i comuni di questo importante convegno nazionale fondamentale della legge 157 dell'anità 2 e più precisamente gli ambiti territoriali di caccia. Al sottoscritto è stato affidato l'arduo compito di aprire i lavori nel convegno in qualità di subcommissario della provincia e individua nelle province, la regione individua nelle province e attribuisce dei compiti precisi e importanti di pianificazione e di tutela della maggiore, quindi anche dei comitati faunisti. Ritengo molto utile e importante attivare sempre più un confronto su questi argomenti. Preferisco una discussione serrata, dura, che eleva il dibattito e che può condurre a decisioni condivise e partecipate, piuttosto che le solite polemiche sterili che tendono a mantenere lo status quo e abbandonare il mondo venatorio a un ruolo marginale. Noi crediamo in una vera e concreta consapevolezza del cacciatore come custodi primario dell'ambiente. Anche i titoli che appaiono nella locandina sono molto chiari. Voi proponete, o almeno c'è il tentativo di alcuni, di contrastare la legge 157, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti territoriali di cacci. Il sottoscritto non è d'accordo, ma partecipo molto volentieri a questo convegno con un spirito costruttivo anche per ascoltare le persone che hanno delle competenze, delle specifiche professioni finché questo possa contribuire a migliorare la legge 23 del 98 e il piano faunistico venatorio che è in corso di approvazione e adottazione. Vorrei precisare che non mi sento nella tana del lupo, ho visto anche degli amici. Io sono un amministratore locale, lo faccio dal 1995. L'ente locale ha l'obbligo di applicare le norme e le leggi promulgate da altre istituzioni. A prescindere dalla bontà della legge. In Italia abbiamo 180.000 leggi, non saranno tutte perfette. Ma le leggi sono anche fatte, non solo per essere applicate e osservate, ma sono fatte anche per essere modificate e vanno modificate nelle sedi legislative. La situazione odierna è la caccia in Italia regolata dalla legge quadro dell'11 febbraio 1992, la numero 157 e le successive modificazioni. Quindi stiamo parlando di una legge piuttosto datata. Quindi norme per la protezione della fauna selvatica, omeoterma e per il prelievo venatorio. L'articolo 2, l'articolo 1, sancisce la fauna selvatica e il patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. È inserito nella Costituzione. Quindi la fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile per cui nessuno può disporne liberamente e la sua tutela è nell'interesse di tutti i cittadini. Questo è il quadro generale sul quale ci muoviamo tutti quanti. Non c'è dubbio che all'interno della legge 157 ci siano molte parti che vanno assolutamente riconsiderate e riviste. Voi avete individuato gli ATC. Ritengo per esempio che è ben definito all'interno della legge tutte le norme di tutela ma non riporta una definizione di che cosa debba intendersi per attività venatoria. Cioè sembra che l'attività venatoria sia solo il prelievo, cioè la caccia, la cattura del selvatico. Ma non è così. Molte associazioni così come la vostra, Dani, chiedono la modifica di parti della legge regionale. Integrazioni, non solo per quanto riguarda gli ambiti territoriali di caccia. La nozione di esercizio di attività venatoria è piuttosto vaga, è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina ma anche ogni attività preliminare nonché l'atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che comunque si appalesano diretti a tal fine. Questa è una sentenza della Corte di Cassazione. Quindi l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina, eccetera, eccetera e tutte le casistiche che voi ben conoscete tali comportamenti, secondo la giurisprudenza prevalente, costituisce esercizio di attività venatoria anche in mancanza dell'abbattimento e della cattura degli animali selvatici. Quindi possiamo liberamente criticare alcune parti, articoli, l'intera legge e ritenerla ingiusta e che va riformata per la violazione dei diritti generali dei cittadini o per carenza o violazione di altre leggi e principi. Per legge ordinaria in diritto si intende un atto normativo adottato dal Parlamento o in certi ordinamenti dall'analogo organo di un ente territoriale e locale secondo la procedura prevista per l'esercizio della funzione legislativa. Quindi la funzione legislativa spetta al Parlamento europeo, spetta alle due Camere ed è disciplinata dalla Costituzione italiana, la legge regionale del 29 luglio del 1998, numero 23. Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna. La regione autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e delle sue risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale. Ad oggi abbiamo redatto gli otto piani faunistici venatori delle otto province che oggi non ci sono più. La regione ha svolto l'attività di coordinamento degli otto piani con attività di armonizzazione e con l'attivazione di tavoli tecnici che si sono appena conclusi proprio per armonizzare e modificare il piano. Ora spetta al Consiglio regionale l'adozione definitiva è la sua futura pubblicazione sul Buras. Per quanto riguarda gli ATC come voi tutti ben sapete è un istituto faunistico. Un ruolo importante all'interno dell'ATC è il comitato direttivo che deve seguire lo svolgimento dell'attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio del territorio di competenza. Quindi l'ATC è un organismo associativo di tipo privatistico senza fini di lucro disciplinato in un apposito statuto al quale sono affidati nel proprio ambito di competenza compiti quali lo svolgimento dell'attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmato svolti sotto la vigilanza della provincia. Le attività di interesse pubblico di cui la precedente capoverso sono svolte dall'ATC nel rispetto dell'anormativa nazionale e regionale vigente e in materia di coerenze con il piano fonistico venatorio provinciale e regionale. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata. Gli ambiti di caccia hanno un carattere subprovinciale e sono individuati in numero compreso fra 8 e 16. Questa era la previsione prima dell'abolizione delle quattro province regionali. Ora siamo nella situazione che abbiamo le province statuali che sono quattro quindi la modifica è stata già inserita e avremo otto ambiti territoriali più quello di Sant'Antiaco e dell'Isola di San Pietro. La prima di alimentazione degli ambiti territoriali di caccia sono stati a carattere sperimentale e se necessario può essere modificata per l'attività di caccia regionale. Quindi è una proposta aperta comunque a una successiva modifica. Descrivo brevemente i compiti dell'ATC almeno nel piano che è in intinere quello previsto dal Consiglio regionale della Sardegna. la ricognizione delle risorse ambientali delle presenze faunistiche l'incremento delle popolazioni di fauna selvattica la promozione del territorio la programmazione e l'eventuale limitazione del prelievo venatorio che deve risultare proporzionato alle risorse faunistiche disponibili. C'è ancora in intinere diverse proposte sul tavolo tecnico che mirano a modificare ancora la legge sul piano faunistico venatorio. In particolare la perimetrazione dell'ATC dovrebbe avvenire tenendo conto di confini naturali opere rilevanti comprensori omogenei di gestione faunistica ed esigenze di conservazione e gestione della fauna selvattica in modo che si possono ottenere ATC di dimensioni subprovinciali e di conformazione adatta ad assicurare un'equilibrata fruizione dell'attività venatoria. I distretti di gestione per la fauna selvattica la gestione faunistica e venatoria della fauna stanziale può essere affidata all'unità minime di distretti di gestione istituiti dall'ATC sulla base di un apposito regolamento che disciplinerà anche l'accesso dei cacciatori predisposto del comitato direttivo e approvato dall'assemblea tali distretti potranno essere istituiti nelle aree vocate risultanti dalla carta regionale delle vocazioni faunistiche per le seguenti tipologie della fauna selvattica cinghiale coniglio selvattico le presarda pernicia sarda quali sono gli organi fondamentali che costituiscono la CT il presidente il comitato direttivo l'assemblea dei cacciatori iscritti e i revisori dei conti il presidente legale rappresentanti agisce in nome per conto dell'associazione e viene nominato al comitato territoriale di caccia come individuato dal piano fornistico venatorio regionale e gestito dal comitato direttivo i componenti del comitato direttivo scelti sulla base del proprio curriculum professionale sono così ripartiti un rappresentante disegnato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale un rappresentante disegnato da ciascuna delle tre associazioni vanature riconosciute un rappresentante disegnato da ciascuna delle associazioni naturalistiche di tutela degli animali due rappresentanti disegnati dalla provincia competente il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda ASL e io aggiungerei anche visto che riteniamo il cacciatore come il vero protagonista del territorio e il custode dell'ambiente la sua presenza all'interno del comitato direttivo è assolutamente imprescindibile quindi negli ATC tutti gli iscritti siano consapevoli delle attività che si svolgono va data grande rilevanza alla pubblicazione delle proprie attività promuovendo la conoscenza dell'ATC le sue finalità garantendo l'informazione delle proprie iniziative su tutti i territori di competenza favorendo e promuovendo la formazione l'aggiornamento e le qualificazioni in campo faunistico venatorio la forma di partecipazione democratica all'interno degli ATC di tutti gli iscritti l'attuazione del programma faunistico venatorio annuale e tutti una serie di criteri di partecipazione che portano la gestione integrata del territorio dell'ambiente all'interno di quel compendio dove tutti gli iscritti sono gli attori principali per la gestione integrata di quell'ambiente una delle attività importanti degli ATC sono le attività di prevenzione e risorciamento danni arrecati alle protezioni agricole e zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati pascolo dalla fauna selvatica cacciabile sulla base del regolamento sui danni arrecati da fauna selvatica promuovere in accordo con i conduttori proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione danni alle produzioni agricole e zootecniche e le opere approntate sui terreni coltivati a pascolo da parte della fauna selvatica cacciabile sulla base del regolamento e sui danni arrecati da fauna selvatica e dalla valutazione dei danni in termini di riduzione quindi tutta una serie di attività per cui l'ATC dovrebbe collaborare e incaricare tecnici esperti per valutare anche questi tipi di attività in questo caso dei danni provocati da selvatica tant'è che può interagire proponendo alla provincia eventuali piani di ripopolamento ambientali sul territorio di competenza di intraprendere azioni per l'incremento del patrimonio faunistico stipolando anche convenzioni con i proprietari con i conduttori del fondo aderire alle convenzioni con la provincia per la gestione delle zone di protezione comunicare alla provincia l'eventuale suddivisione al territorio in distretti gestionali per la fauna selvatica stanziale individuati disciplinando il regolamento interno predisposto dal comitato direttivo e approvato dall'assemblea nominare per ciascuno una responsabile proporre alla provincia per motivate esigenze gestionali eventuali modifiche per i medici predisporre appropiate forme di vigilanza avvenatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dalla legge collaborare con la provincia per tutte le attrazioni legate alla gestione forestico ambientale del territorio redigere dei programmi annuali deliberare in ordine l'accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa tramite l'utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata il comitato direttivo dovrà caricare tutti i dati dei carnieri contenuti nel foglio venatorio altresì deve provvedere a ritirare il foglio venatorio entro le date previste l'altro componente per la gestione dell'ATC a mio parere è l'assemblea l'assemblea è costituita da rappresentanti dei cacciatori iscritti all'ATC ed eletti sulla base della consistenza e quindi qui c'è un calcolo che va fatto in base al numero dei cacciatori che vengono rappresentati da 1, 2, 3 secondo il numero l'assemblea viene insiedata dal comitato direttivo su convocazione del presidente previa deliberazione del CD del comitato direttivo successivamente è convocata almeno due volte all'anno e può essere convocata su richiesta motivata da almeno una parte dei membri la convocazione dell'assemblea viene effettuata tramite pubblicità a mezzo di affissione presso la sede dell'ATC quali sono i compiti dell'assemblea approva lo statuto e le sue modifiche assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal comitato direttivo approva tutti gli atti di amministrazione inerenti la gestione del comitato direttivo quindi l'assemblea è costituita da rappresentanti dei cacciatori iscritti all'ATC eletti sulla base della consistenza e iscritti all'anagrafe dei cacciatori residenti dei comuni di appartenenza comprendente ciascuno ATC qui c'è una grandissima novità e poi tratta tutti i codici di comportamento alle modalità di accesso eccetera eccetera quindi ogni cacciatore previa domanda al componente del comitato direttivo ha diritto di accesso in un ambito territoriale di caccia prescelto per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale per gli stessi si può avere accesso ad altri ambiti nei limiti di densità venatoria specificati dall'articolo che prevede appunto qual è l'indice di densità l'esercizio venatoria nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli ATC l'opzione dell'ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovato il comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore fino al limite di questa disponibilità la missione all'ATC il cacciatore partecipa di diritto all'ATC comprendente il comune in cui è la residenza anagrafica in sede di prima applicazione del presente regolamento la precedente iscrizione per almeno due anni in una zona autogestita per l'esercito della caccia istituita nel territorio nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superano il numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densità stabilito il comitato direttivo ridige una graduazione di richiedenti sulla base dei seguenti requisiti quindi la residenza nei comuni salvi densità venatoria residenti nella provincia i cacciatori non residenti possono esercitare l'attività venatoria in Sardegna purché provvedono al pagamento della tassa annuale vabbè queste porte quindi per chiudere io credo che sia chiedo scusa se vi ho tediato funziona bene io credo comunque sia che bisogna dare definizione alla legge e al suo piano anche al piano di attuazione che comunque sia è ancora in intinere perché al momento questa legge risponde all'esigenza non solo del mondo venatorio ma anche di tutti i cittadini di tutti quelli che vivono comunque sia all'interno degli ATC che non sono solo i cacciatori anche perché credo che sia il momento di dire basta di andare a caccia in deroga e dare quindi definizione normativa e legislativa attraverso questa approvazione grazie a tutti per l'attenzione allora prima di passare la parola al signor Paolo Leonardi segretario nazionale della CPA vorrei porre un saluto all'onorevole Gigi Rubio e all'onorevole Eugenio Lai che sono venuti a trovarci e poi avranno modo anche loro dopo di dire la loro grazie passo la parola al signor Paolo Leonardi prima il presidente regionale è giusto scusate se mi intrometto però è bene sapere che noi abbiamo comunque invitato l'assessorato regionale dell'ambiente a partecipare perché è giusto che ci sia un contraddittorio io sono felice che Ignazio Tullo abbia preso questa posizione perché lui la pensa diversamente da noi solo col confronto si possono raggiungere gli obiettivi quindi è un bene che ci sia che abbia parlato e che abbia espresso il suo pensiero altrimenti il convegno in un certo qualsiasi poteva essere anche falsato sì intanto grazie di essere intervenuti è un mio personale saluto unito a quello dell'associazione è troppo facile per me è troppo facile perché io capisco che chi mi ha preceduto abbia parlato dal punto di vista istituzionale però vedete io mi trovo anche in difficoltà perché stamattina mi sono svegliato con una forma allergica ma credo che questa allergia abbia un responsabile ben preciso e lo trovate alle mie spalle il problema voglio dire un conto parlare di morte e un conto morire perché parlare in teoria della 157 parlare in teoria degli ATC tutto sommato è facile perché la parola ai cacciatori gli amministratori facciamo questo facciamo un conto invece è viverci voi avete avuto la fortuna non solo ad abitare su una terra splendida come la Sardegna ma siete stati fortunati a non l'avere adottato gli ATC noi chi vive in Puglia chi in Piemonte chi nelle Marche chi in Umbria chi nel Lazio abbiamo vissuto sulla nostra pelle l'assurdità perché non ha un nome diverso gli ATC già la 157 è la negazione della caccia perché se fosse stato il contrario da due milioni di cacciatori non saremmo ridotti a 700.000 quindi se c'è una legge che vuol promuovere qualcosa non la distrugge il fatto che i cacciatori non è che si sono dimezzati di più significa che quella caccia non funziona che la legge non funziona che la caccia così non può essere gestita e all'interno della 157 c'è il cuore pulsante della legge che è l'articolo 14 sono gli ATC la negazione della caccia perché se tu per andare a caccia anziché guardare da che parte arriva il vento vedere la stagione delle immigrazioni devi decidere prima a maggio fare la domanda per andare a caccia laddove dovrei pagare un altro balzello questa è una caccia che va fatta solo da chi ha quattrini e poca passione gli ambiti editoriali della caccia sono fatti per chi ha soldi se tu hai i soldini puoi andare a caccia in tutta Italia puoi prendere tutti gli ATC che vuoi a 100 150 euro l'uno e vai a caccia da per tutto senza problemi anche all'interno della tua regione perché laddove ci sono tanti ATC qui si parla di 8 mi pare che abbiate detto ecco tenete presente che in Lombardia ci ne sono 31 di ATC nel Veneto 34 è una cosa assurda quindi se tu ti vuoi allontanare poco poco per andare a caccia perché se le leggi le facessero le persone che capiscono qualcosa di attività venatoria sanno che ci deve essere una certa forma di nomadismo perché se devo andare a fare un tipo di caccia alquaglie non vado certo sul picco della montagna se devo andare a cinghiali certamente non vado sulle spiagge quindi uno si deve poter spostare laddove ci sta la selvaggiera si sposta per tempi e per specie invece queste cose sono state partorite da menti malate e da menti avide e le menti avide lo devo dire sapendo di non essere smentito con la partecipazione con la complicità delle associazioni venatorie allora riconosciute che hanno voluto fortemente la 157 ma la cosa è evidente non è che l'ho detto io ecco sì è stata voluta perché in quella maniera si riusciva a mettere gli uomini al comando alla gestione anche economica ma grazie a Dio voi forse non siete informati perché qui queste cose non sono successe ma ne hanno arrestati credo una quantità infinita compresa nella mia Umbria così come l'hanno arrestati in Toscana così come sono sotto processo in Piemonte da per tutto perché le longa manus e l'avidità dell'uomo è stata per tutto non è che fra i cacciatori poi sia così specialmente per i burocrati perché ci sono tanti che non vanno a caccia stanno lì a gestire certe cose che non gli appartengono gli ATC che in teoria dovrebbero far tanto bene ma gli ATC sono una cosa delicata vanno a individuare le risorse ambientali del territorio vanno a quantificare le specie faunistiche che ci sono e poi gestiscono un bel po' di quattrini perché ognuno di noi ha diritto loro dicono sulla legge ha diritto a un ATC non è che ha diritto a un ATC è obbligata a pagare una tassa per andare a caccia nel suo ATC è diverso perché è tanto nobile scrivere ha diritto a un ATC no se ho diritto a un ATC me lo dai gratis allora visto che ho diritto almeno a uno mi pengo quello non ne voglio altri no tu hai diritto a un ATC però paghi e siccome la tassa che dovrei pagare non può essere inferiore al 50% della tassa di concessione governativa che paghiamo tutti di 173 euro da lì capite subito che meno di 80-90 euro per quell'unico ATC non li pagherete quindi lo sapete e se poi poco a poco vi dovete allontanare o per fare la caccia cinghiale o per andare a Colombaccio o qualsiasi altra specie perché ognuno di noi ha i propri sentimenti ha la propria passione ha fatto le proprie scelte e allora tu devi pagare uno, due, tre, quattro ATC queste cose sono la negazione assoluta della caccia e io non mi invento niente perché vi voglio far vedere così qui ci sono i nostri giornalini del 1988 quando sapevamo che stavano nelle segrete stanze studiando la 157 e noi eravamo contrari già da allora nel 1989 nel 1990 eccoli qui e questa è una bozza una stesura della legge 157 questo è un reperto archeologico è più vecchio di me quasi beh questo no magari e qui dentro ci sono tutti gli emendamenti che noi tramite i nostri parlamentari o i parlamentari che ci sono vicini non i nostri perché non ce li abbiamo mai avuti le persone che ci stavano vicine e condividevano le nostre scelte hanno presentato in Parlamento ma non c'è stato niente da fare non c'è stato niente da fare perché la voglia di fare questa legge già nel titolo è la negazione della caccia il titolo da 157 sapete qual è ma gli ATC stessi sono la negazione perché divideranno padre perché lo sapete come si va a fare la scelta per gli ATC se tu vai a fare la domanda fuori da un altro ATC in un'altra zona devi presentare la domanda e se la densità venatoria quindi se la quantità dei gacciatori è troppa o è al limite devono fare delle scelte allora che cosa scelgono? quello che abita più vicino a quell'altro ATC ha più diritto di quello che abita più lontano per cui se io padre ho mio figlio che abita a 5 km probabilmente non lo scelgono su quella ATC perché danno la precedenza a lui che abita vicino a me e allora ecco se andare a caccia significa dividere padre e figlio o i fratelli o due cari amici allora questo è il principio stesso che non può funzionare voi ragazzi avete una possibilità secondo me ci dobbiamo battere affinché questo scempio non vada avanti ho sentito che in democrazia ebbene ci sono le leggi vanno modificate ma io fossi veramente direi non ci andiamo a caccia non rinnoviamo niente la smettiamo in questo momento i cinghiali i cinghiali ve li ammazzate da soli ci andate voi e che dobbiamo fare noi gli spazzini no? al servizio dello Stato no? ma perché fare? per pagare i gettoni di presenza? è assurdo questa cosa questo scempio fate in modo che non succeda io non credo che il popolo sardo sia così il coglione passatemi il termine da farsi passare impuremente certe scelte scellerate noi non lo sapevamo l'avevamo intuito e l'avevamo sbandierato in mezzo mondo ma voi qui oggi saprete ma non solo tramite me perché io non so nessuno ma tramite anche i nostri amici quello che è successo nel resto del continente e se allora sbagliare è normale perseverare va bene io mi hanno detto di farla corta perché altrimenti ci sarebbe da scrivere un libro su no agli ATC quindi mi auguro che anche voi siate solidari con questo slogan grazie a tutti quanti allora prima di passare la parola al nostro presidente nazionale l'avvocato Alessandro Fiumani vorrei salutare Modesto Fenu che è appena arrivato ben svegliato conduttore della trasmissione Silva Manna che abbiamo il piacere di vedere su videolina Alessio Pasella dove sei Alessio perché ti nascondi presidente del movimento Sardo Pro Territorio Franco Gattermeier che è venuto a trovarci e poi ci tenevo a far presente che tutte le altre associazioni venatorie sono state invitate a partecipare ci fa piacere se arrivano prima o poi passiamo la parola all'avvocato Alessandro Fiumani presidente nazionale di Caccia Pesca Ambiente io inizio con i dovuti ringraziamenti al C.P.A. al C.P.A. Sardo capitanato da Marco e alla segreteria nazionale che ha collaborato per questo importante momento momento di confronto per chiarire alcuni concetti innanzitutto oggi parliamo di ATC e gli ATC non sono una entità che è caduta dal cielo una notte di mezz'estate sono un istituto previsto dall'ormai famosa famigerata 157 che ha avuto ahimè un padre e diversi genitori la 157 è stata scritta di pugno dall'onorevole Rosini e avvallata da tutte le associazioni venatorie riconosciute che hanno individuato in quella legge lo strumento magico per lottizzare il potere venatorio perché con l'ATC le associazioni venatorie riconosciute hanno messo le loro mani sulla gestione della caccia come ha detto molto bene il segretario Paolo Leonardo noi non ci siamo inventati contro gli ATC oggi per fare più tesserati per un tornaconto elettorale o per altri motivi noi siamo stati contro gli ATC non solo dalla loro origine ma dalla loro previsione io non sono nato nel CPA io ero un dirigente provinciale della federcaccia e nell'89 nel 90 ci capitò di avere i primi articoli le prime bozze di articoli di quella che poi sarà la 157 e incominciamo a aprire un confronto all'interno della federcaccia e io incominciai a essere molto critico dubbioso di quella che era la previsione di questa legge scoprì con piacere che il visionario non ero solo io ma c'erano altri in altre associazioni venatorie riconosciute che si domandavano il perché e soprattutto quali erano gli effetti di questa normativa e la cosa drammatica è stata constatare che se si parlava traccacciatori tutti erano assolutamente contrari più si saliva la scala gerarchica delle associazioni e più si riscontrava una condiscendenza pericolosa a questa norma poi capimmo il perché quindi il CPA non è contrario all'ATC per la cattiva gestione dello stesso ci sono articoli sui giornali arrestato messo sotto processo corte dei conti è facile adesso dire ma la gestione è stata negativa però la gestione passa attraverso gli uomini quindi ci sono gli uomini disonesti e gli uomini onesti ma il CPA è contro il principio dell'ATC cioè contro il legame cacciatore territorio noi siamo stati sempre contro questa previsione qui perché per noi la caccia è libertà è libertà di poter scegliere di andare a caccia in Piemonte è libertà di poter scegliere di andare a caccia in Puglia e di farlo secondo quella che è la nostra esperienza venatoria secondo la stagione secondo anche le amicizie e non possiamo pensare in maniera preventiva quello che sarà la nostra volontà futura quindi la gestione dell'ATC paradossalmente viene dopo cioè noi siamo contro il principio che vuole la istituzionalizzazione dell'ATC è ovvio che in una legge ci sono le cose buone le cose cattive nella legge 157 vuoi che non c'è qualcosa di buono per quanto riguarda la la previsione degli ATC ma lì dopo arriviamo l'intervento del presidente Tolu che io ringrazio perché se non altro ha il coraggio di confrontarsi contro una con una platea che la pensa totalmente diversa da lui e ha elencato in maniera puntuale tutto quello che prevede l'istituzione di un'ATC io perché lo ringrazio perché ha messo in evidenza tutto quello che non io e il CPA contestiamo degli ATC non tanto la gestione perché probabilmente ci sarà una gestione fatta da persone oneste che non si attaccheranno come purtroppo è successo ai fondi degli ATC ma che comunque è viziata dalla previsione perché l'esperienza insegna gli ATC sono la burocratizzazione della caccia cioè io devo fare domanda devo essere accettato devo pagare con quei soldi non si va a effettuare l'adempimento previsione di legge ma si crea il consiglio di amministrazione si assumono le persone si devono dare incariche ai commercialisti per il bilancio in buona sostanza la metà del bilancio dell'ATC va speso per la gestione e sussistenza dello stesso quindi noi riteniamo che quelli siano fondi sottratti alla caccia un'altra cosa ha detto importante il presidente Tolu l'obbligo di applicare la legge c'è una normativa nazionale che prevede l'istituzione dell'ATC giusto bisogna rispettarlo però bisogna anche evidenziare che la legge è stata promulgata nel 1992 quindi se per 16 anni i cacciatori sardi sono andati a caccia senza ATC 26 anni ho fatto l'avvocato perché ho fatto cagnaracco i numeri io da piccolo per 26 anni voi siete andati a caccia senza ATC qual è l'obbligo normativo di applicarla oggi quando gli ATC in Italia hanno dimostrato tutti i loro limiti torniamo alla nel continente dovremo tornare alla situazione prima della 157 ma voi avete la fortuna di poter continuare ad andare a caccia in questa situazione e non mancano gli strumenti giuridici per la collaborazione cacciatore e istituzione provincia per quello che è rimasto e regione l'altro aspetto che noi ci troviamo a combattere è una violazione tutto sommato costituzionale nel senso che la costituzione prevede la libertà di associazione quindi mi dà la possibilità di scegliere con chi quando e dove associarmi ma se sbaglio associazione io nella maggioranza degli ATC non sono neanche rappresentato perché la rappresentanza è delle associazioni venatorie riconosciute però c'è l'assemblea dove possono partecipare tutti gli iscritti all'ambito e quindi io posso in qualche maniera dire la mia una volta all'anno no perché nell'assemblea ci vanno non i cacciatori ci vanno i rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute quindi noi no e questo è un vulnus importante di uno strumento che vuole gestire in maniera democratica la caccia in Italia questo ovviamente l'abbiamo sollevato in tantissime occasioni ma visto e considerato che la 157 l'hanno voluta le associazioni venatorie riconosciute non hanno nessun interesse a far sì che un'associazione pulita competente possa partecipare alla gestione dell'ATC ma se noi poi andiamo avanti e entriamo un attimo nello specifico della gestione degli ATC o meglio della cattiva gestione degli ATC notiamo che nel continente hanno applicato immediatamente la creazione del comitato del presidente della struttura la sede la segretaria una più o due e la gestione dei soldi dei cacciatori ma non hanno applicato quello che forse era l'unico punto qualificante della 157 che all'articolo 14 prevede che gli ATC programmino gli interventi per il miglioramento degli habitat gli incentivi economici per i conduttori dei fondi la ricostruzione della presenza faunistica ottimale per territorio il ripristino delle zone umide dei fossati la differenziazione delle culture la coltivazione di siepi cespugli e alberi adatti alla nidificazione di tutto questo nella stragrande maggioranza degli ATC in Italia o nel continente come si usa a dire da queste parti non è stato fatto niente io vengo da un ATC ahimè tristemente famoso il Pesaro 1 dove l'ambiente è stato assassinato devastato c'è solo bosco e coltivato coltivato e bosco allora mi dite voi che cosa che ambiente può trovare la selvaggina stanziale o anche quella migratoria ci si attacca a i fagiani alle 3000 pernici che dovrebbero essere lasciate ecco per noi quella non è caccia quindi quindi non è una contrarietà ai principi è anche una contrarietà alla gestione poi mi avvio al termine per ascoltare le vostre impressioni alla TC è dato il mandato di far fronte e risarcire i danni all'agricoltura è una cosa a livello di principio interessante un contatto diretto con l'agricoltore snellire la burocrazia ma si è arrivati alla consuetudine che ci sono le denunce fotocopia io so che posso prendere 500 euro all'anno perché è la soglia minima per lo meno in tanti ATC per evitare il controllo quindi arrivano agli ATC le fotocopie identiche all'anno passato e questo comporta che il povero agricoltore che ha effettivamente bisogno e subito i danni ha bisogno del risarcimento non ce l'ha c'è un modo molto semplice di evitare la gestione clientelare di questi fondi c'è stato un presidente nell'ATC di Arezzo che ha istituito una consuetudine chiara arriva la denuncia si manda in giornata il tecnico se non riscontra quello che ha verificato nella denuncia gli atti vanno immediatamente alla procura in un anno da 100 fatto 100 il numero delle richieste di risarcimento siamo arrivati a 20 vere perché giustamente sappiamo che ci sono casi in cui l'agricoltore patisce i danni alla fauna quindi da oggi da questa riunione deve partire l'invito perché noi possiamo solo in maniera cortese ferma e decisa invitare la politica a far tesoro della esperienza negativa degli ATC e continuare a farvi andare a caccia con libertà grazie grazie al presidente fiumani passiamo adesso a sentire qualche esperienza diretta da chi lo subisce da anni parlerà adesso Maurizio Montagnani presidente cpa della regione toscana a te Maurizio buongiorno a tutti prima di tutto prima di tutto anche io ringrazio Marco per avermi invitato a questa vostra assemblea e prima di venire in assemblea ho fatto una cosa normalissima ho detto parlo di ATC tre giorni prima vado dal barbiere perché mi faccio tagliare i capelli se no mi si raddrizzano tutti è molto semplice è stata fatta una legge la 157 di un venerdì alle 3 della notte alle 3 della notte cosa c'era che si nascondeva sotto gli ATC dopo aver dopo che gli ambientalisti avevano perso 20 referendum fra regionali e nazionali allora io dico nella nella mia toscana dove vivo io è sempre stata la patria della Starna successivamente del Fagiano in Val d'Orcia nella bassa Piana Senese venivano fatti campionati europei e mondiali decani da ferma in particolare gli inglesi la mia ragazza io abito a Firenze la mia ragazza si trova in quel paese lì in quel in quel in quel punto lì non si sente più cantare un Fagiano non vediamo da anni più vedere una Starna questa è la conclusione degli ATC e sarò molto breve sarò molto breve perché tutte le belle parole che vogliamo la regione Toscana dal 95 ad oggi ha cambiato tre volte ha modificato tre volte la legge sulla caccia sugli ATC e ha cambiato tre volte la situazione territoriale dell'ATC stesse quindi oggi ci troviamo della cartellazione che è vecchia se uno sbaglia e va cento metri più avanti paga una sanzione di 200 euro questo è l'ATC l'ATC dove poi negli ultimi anni in quest'anno in particolar modo l'ATC Firenze 5 ha 900 mila euro di debiti Firenze 4 5 o 600 mila euro di debiti non detto da me assolutamente ma dall'assessore regionale all'agricoltura Paolo Rimanschi è questa l'ATC metti le persone lì loro tirano a campare senza pensare che poi le conseguenze le paghiamo noi io non voglio parlare oltre che da dirigente venatorio voglio parlare anche da cacciatore perché alla fine noi siamo quelli pensate che i bollettini degli ATC in Toscana vengono stampati quindi non vengono mandati a casa vengono stampati da un computer e le persone che hanno qualche anno in più dovrebbero andare dove devono andare dai propri figli alle sezioni delle associazioni venatorie creando ulteriore burocrazia allora io sono molto chiaro io come il nostro presidente nazionale ero in un'altra associazione venatoria ma nel 1991 non ho avuto nessun dubbio no ATC no ATC no ATC e lo voglio sentire dire da voi no da me perché lo sto subendo da 22 anni 23 anni da 240 mila cacciatori della Toscana siamo ridotti a 70 mila la piccola selvaggina stanziale non esiste più c'è un enorme risalto di capi di ungulati che fanno devastazioni nelle nostre campagne ci sono gli agricoltori che non coltivano più ora è arrivata anche la presenza del lupo questo è quello che noi non vogliamo come CPA noi vogliamo andare a caccia liberamente su tutto il territorio regionale ma forse anche nazionale per quanto riguarda la migratoria e allora stamattina deve partire una voce unica da Sardara giusto? Sardara di dire no agli ATC datemi detta perché è veramente una cosa che fa male al cacciatore grazie grazie Maurizio parlerà adesso Martino Santoro dalla Puglia io vorrei fare innanzitutto i complimenti a Marco i complimenti a Romano a Dino Dino Carta ma a tutti gli altri amici qui presenti amici che ho conosciuto l'anno scorso in fiera perché voi avete organizzato questo bel convegno questa bella manifestazione importantissima magari lo avessimo fatto noi nelle regioni dell'Italia questo non è avvenuto perché nel momento in cui è uscita la normativa citata un po' da tutti dal presidente da Paolo ma da tutti gli altri che mi hanno preceduti la 157 ci siamo fatti prendere un po' dall'enfasi della innovazione questa innovazione che naturalmente di tanto in tanto prende persone che parlano di caccia ma effettivamente la caccia pratica non la fanno io ho avuto delle esperienze pregresse già da tanti anni nella mia regione ma anche nelle regioni confinanti con la mia io sono della Puglia e mi ritrovo come abitante a ridosso di tre province pensate un po' il mio paese cade a un chilometro dalla provincia di Taranto ad un chilometro e mezzo dalla provincia di Brindisi e rientra nella provincia di Bari pensate alle difficoltà mie e dei miei concittadini ma anche di tanti altri paesi viciniori per poter avere le autorizzazioni per cacciare a un chilometro da casa c'è tutta una burocrazia non indifferente a parte il fatto che noi abbiamo tre o quattro mesi di caccia all'anno beh ci dobbiamo occupare di caccia burocratica tutto l'anno a partire già dopo la chiusura io sottoscritto sono stato costretto a formare innanzitutto considerate che adesso non c'è l'alternativa delle PEC alle raccomandate due PEC perché mi si è riempita immediatamente la casella postale di Aruba perché non pensavo che con tante PEC con tanti allegati perché tanti cacciatori sono costretti a fare domande ma non solo questo fino a quando c'era tutta la burocrazia da rispettare soldi da spendere tutto il resto il discorso è che c'è questo indice di densità menzionato anche dal dottor Tolu che dovrebbe essere rivisto dice la normativa nazionale 19,01 ettari per ogni cacciatore in forma quinquennale dal ministero delle risorse agricole questo da 1992 non è stato mai rivisto che cosa succede per chi è costretto a subire gli ambiti territoriali questo acronimo cattivo ATC succede appunto che non c'è il posto per tutti quindi si creano le cosiddette scissioni le cosiddette secessioni prima tutti parlavano contro le secessioni però di contro con questi organismi si applicano le secessioni quindi burocrazia complessa ma non solo secessioni perché le squadre c'è chi ha l'autorizzazione c'è chi non la ottiene poi non solo le normative sono interpretative si interpretano quindi ho sentito parlare anche del 50% di pagamento beh in una legge che io vedo nella mia regione è stata imposta una tassazione che va dal 50% al 30% della somma della tassa regionale quindi cosa vuol dire che se la tassa regionale è la metà della tassa governativa c'è 84 euro nel nostro caso si può fare 8 per 3 e si arriva a pagare 200 e rotti euro per uno ATC questa è una forma di speculazione grava gravissima ma perché questo perché io così a tu per tu con chi fa parte di queste strutture mi sono sentito perché noi una soluzione l'avevamo trovata dopo le difficoltà queste che poc'anzi ho citato quale era la soluzione alcuni politici di ente istituzionali vicini a noi nel 2004 andarono ad entrare nei dettagli della normativa nazionale della 157 che diceva appunto che comunque l'articolo 10 l'articolo 14 di questa normativa ci devono essere gli ATC però io sfido chiunque forse non sono riuscito a carpirlo durante tutto quello che è scritto in questi articoli ha sfido chiunque a leggere che gli ambiti territoriali devono essere imposti sia per la selvaggina stanziale che per la fauna migratoria non ci sta scritto da nessuna parte quindi che cosa accadde nel 2004 disse l'assessore della regione Puglia all'agricoltura formiamo gli ATC perché ce lo impone la legge nazionale però formiamoli cioè cambiamoli perché erano stati già formati negli anni 90 siccome c'erano tutte queste difficoltà dice formiamoli solo per la gestione della fauna che si può in un certo modo programmare si può controllare si può ecco quella stanziale per quanto riguarda per quanto concerne la fauna migratoria noi siamo andati avanti appunto dal 2004 fino al 2017 andando liberamente così come ha detto il nostro presidente nazionale Alessandro Fiumani andando liberamente a caccia in tutta la regione col pagamento di un solo ATC quello di residenza e avevamo trovato una forma di compromesso poi è accaduto recentemente proprio nel 2017 a dicembre la normativa nuova è stata approvata il 20 dicembre del 2017 da un io non voglio fare politico ma da una fazione politica che è un po' avversa a noi ma perché è stata anche spinta da chi gestisce queste strutture perché si è trovato un po' in difficoltà economica a seguito dei contenziosi perché ne nascono tantissimi forse viviamo in un settore dove vige un po' la litigiosità però ripeto sono tanti condizioni ho avuto modo di citarle sul libricino allegato nel nostro organo di stampa associativo dove sono nati alcuni contenziosi gravi perché l'ATC poi alla fine è stato detto dal dottor Tolu è un organismo di ordine privatistico che cosa significa questo fatto qua che se c'è un rappresentante di un ente istituzionale incorre in errore qui abbiamo gli onorevoli abbiamo i funzionari loro sono tutelati eventualmente facendosi un'assicurazione perché sbagliare umanum est però essendo un organismo privatistico sapete cosa succede che se non si va ad incorre in errore si parla di tasca propria quindi io questo lo volevo sottolineare in maniera tale che tutti coloro che si allettano da una ipotesi remota di far parte di un ente di gestione sono sottoposti a rischi del genere che pagano di tasca loro e nella mia provincia non tanto tempo fa cito anche il PM Gaetano De Bari anche se magari poi può sfuggire se qualcuno vuole controllare basta che va su Google indica operazione cacciagrossa PM Gaetano De Bari e vedete un po' che cosa è accaduto nell'ATC della mia provincia della provincia di Bari cioè sono 12 persone sotto inchiesta a rischio di pagare loro perché magari avranno sbagliato eventualmente anche in maniera involontaria perché poi alla fine che cosa hanno fatto hanno fatto una procedura di gara magari non proprio con i dovuti regolamenti perché io ho chiesto informazioni anche al dipendente il quale dipendente purtroppo è coinvolto pure lui purtroppo per guadagnare lo stipendio è coinvolto a pagare il triplo eventualmente e ha detto noi abbiamo fatto una procedura di gara per garantirci perché quello che viene detto in assemblia è sempre il solito discorso è sempre il solito discorso che bisogna trovare selvaggina buona non selvaggina pronto all'uso per le volpi o per altre forme di predatori ma pronto all'uso preambientata nelle gabiche poi alla fine anche se sono preambientati sembra lo stesso non è selvaggina che è nato non ce l'ha nella indole non ce l'ha nella indole questo è il discorso che bisogna far capire quindi abbiamo fatto una gara in maniera tale che nel momento in cui era frazionata nel momento in cui si doveva fare l'immissione vedevamo i faggiani buoni li mettevamo poi dopo 15 giorni andavamo a vedere gli altri alla fine è venuto fuori il contenzioso ma non solo questo ve ne dico un'altra il medico veterinario direttore tecnico dell'ATC tanti anni fa doveva emettere delle lepri se ne è accorti che queste lepre erano un po' malandate allora ha preso due lepri nell'immissione ha detto ha fatto una richiesta ha detto queste qua io le devo tenere per controllare non si sa mai hanno la corcigliose qualche altro tipologia di malattia è stato denunciato da un altro componente della comitato di gestione perché si è appropriato indebitamente di due lepri del patrimonio di tutti perché lui li voleva contare il direttore tecnico ma ne possiamo dire tantissimi nell'ATC della Basilicata di Matera si sono inventati la somma non quella imposta dalla regione ma per i cacciatori ospiti 200 euro per un mensile ai pugliesi si pagava 200 euro un mensile quindi una speculazione forte 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 ecco perché noi siamo contrari bisognerebbe effettivamente trovare un punto di incontro tra chi ha favore e chi è contro perché effettivamente ecco questo lo volevo sottolineare spesse volte le associazioni forti anche quelle venatorie vanno dal politico di turno parlando dicendo che queste sono delle iniziative buone convincendo e dicendo che perché si portano avanti un seguito di mille due mila tre mila persone associate che magari neanche sanno di quello che sta dicendo il proprio presidente perché noi lo divulghiamo di fronte a tutti però io non penso che se ne facciano tante di queste manifestazioni e anche a livello di altre componentistiche di altri organismi associativi per cui non sanno di quello che viene detto e di controparte neanche chi sta dalla parte delle istituzioni sa che tutti questi cacciatori vogliono il contrario altrimenti non lo avrebbero assentito vabbè non vorrei dilungarmi più di tanto perché lo spazio lo voglio lasciare ad altre persone però voglio dire le difficoltà sono tantissime le abbiamo subite tante qualcuno l'ho menzionato ma ce ne possono dire si può parlare giornate e giornate interi di tutto quello che è avvenuto non posso fare altro che salutare tutti e ringraziare tutti dell'attenzione grazie Martino vorrei passare il microfono all'onorevole Gigi Rubio direttamente dalla regione Sardegna buongiorno a tutti prima di iniziare l'intervento premetto che sono contrario agli ambiti territoriali di caccia potrebbe potrei fermarmi qui però ho necessità di spiegare alcune cose io faccio parte della quinta commissione regionale che oltre attività produttive agricoltura caccia e pesca quindi i temi sulla caccia devono obbligatoriamente passare presso la nostra commissione così come sono passati presso la nostra commissione quei bravissimi consulenti che stanno predisponendo gli ambiti territoriale di caccia per la Sardegna che casualmente non conoscono il territorio della Sardegna e casualmente non risiedono in Sardegna perché siamo stati bravi perché siamo stati bravi a scegliere dei consulenti quindi anche da un punto di vista economico dare lavoro perché qui ne abbiamo tanto lavoro non abbiamo problemi di investire i nostri giovani o i nostri professionisti ad una società che non è sarda che non conosce la Sardegna che sta facendo un coppia e incolla di altri ATC della penisola quindi al di là della contrarietà all'ATC al di là del fatto che noi sardi che abbiamo già il nostro confine naturale che ci porta grandi vantaggi in alcuni casi degli svantaggi che è il mare non abbiamo bisogno di altri confini non abbiamo bisogno di confini che dividono la nostra popolazione ma quando parliamo della popolazione venatoria che forse è la popolazione che ancora oggi mantiene saldi i rapporti tra i territori i rapporti tra cacciatori agricoltori che sono il cuore pulsante della nostra economia della nostra società ma soprattutto della nostra cultura perché questo è un aspetto che sfugge il cacciatore non è solo colui che va la domenica a svolgere quella che è la sua passione più grande che è nulla a che vedere con lo sport perché è una religione è una fede è un altro valore sociale per non farla troppo lunga perché voglio dare spazio anche agli altri io voglio comunque rassicurare questa è la rassicurazione che voglio fare agli amici qui presenti ma soprattutto al CPA che ha organizzato questo bellissimo convegno che il consiglio regionale ha altri problemi ben più complicati da discutere che sarà nostra cura fare opposizione forte a questo tipo di legge sarà nostra cura evitare che passi in commissione sarà nostra cura contrastarla in consiglio siamo ormai a otto mesi dalla conclusione del mandato ovviamente io sono in minoranza e mi auguro che tra otto mesi ci sia un governo diverso magari leggermente più sensibile al mondo e venatorio e leggermente più sensibile ai cacciatori ma questo è marketing politico e perdonatemi in realtà quello che ci interessa la rassicurazione è che non ci saranno i tempi non ci sono più i tempi tecnici il consiglio si avvia ormai all'inizio della discussione della legge urbanistica dobbiamo discutere la legge elettorale non riusciremo sicuramente a portare a conclusione quello abbiamo problemi più seri noi vogliamo quindi che trattare questi problemi non che la caccia non lo sia ma vogliamo che la caccia rimanga così com'è perché se ci tolgono anche quest'ultima libertà beh ragazzi allora forse è meglio che la caccia si chiuda definitivamente grazie Gigi devo fare è doveroso fare una precisazione allora la caccia come voi sapete è trasversale ci sono cacciatori di destra di sinistra di centro l'esempio lampante ce l'abbiamo qua con l'amiche Eugenio Lai vicepresidente del consiglio regionale che attualmente è in maggioranza che comunque ha difeso in tutte le sedi come ha fatto Gigi Ruiu come ha fatto Attilio Dedoni come ha fatto Edoardo Tocco come hanno fatto molti consiglieri regionali quindi è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare perché vieni Eugenio un altro ti sto passando il microfono quindi voi sapete chi segue le vicende della caccia chi segue il gruppo CPA sa chi sono gli onorevoli che hanno dato una mano per salvaguardare la nostra passione quindi volevo precisare e ringraziarle ancora davanti a tutti perché ogni volta che gli abbiamo chiamati che abbiamo chiesto il loro aiuto per l'intervento affinché si bloccassero gli ATC loro sono sempre stati presenti sia Eugenio sia Gigi e altri consiglieri regionali era doveroso precisare grazie grazie Marco grazie anche per il momento di discussione che oggi stiamo affrontando per l'argomento anche che stiamo affrontando che è estremamente sentito nel mondo nel mondo venaturio soprattutto nel mondo venaturio sardo considerato il fatto che si sta discutendo anche in maniera in alcuni casi molto animata della necessità o meno di cambiare qualcosa anche sul mondo della caccia perché io parto da questo presupposto così come non è sufficiente così come anche la legislazione sul mondo della caccia va cambiata e così come non sono soddisfatto delle direttive che ci vengono imposte uno dall'Unione Europea e due dalla legge che poc'anzi è stata citata la 152 157 sì del 92 e parto da questo presupposto per giustificare anche la mia posizione perché vorrei entrare sui temi sulle discussioni considerate il fatto che sono anche cacciatori anzi sono cacciatori prima che consigliere regionale la questione si pone in maniera in maniera estremamente seria io sono uno di quelli forse anche per la giovane età che pensa che quando una legge è sbagliata quella legge va cambiata e allora parto da questo presupposto io non sono favorevole agli ATC così come sono stati pensati sono fortemente contrario agli ATC così come sono stati pensati e penso che la legge numero 157 vada modificata vada modificata naturalmente per tutelare il mondo della caccia perché badate bene qui non è questione di destra, sinistra o centro all'interno di buona parte dei partiti che sono nel panorama politico ci sono i favorevoli e i contrari alla caccia lo vediamo in questi giorni in numerose discussioni e ne abbiamo discusso tante volte anche all'interno del consiglio regionale anche con altre forze politiche che non sono in questo momento in maggioranza e allora penso che bisogna ed è indispensabile anche aprire un momento di riflessione generale che consenta di rivedere le normative attualmente in vigore in Italia e se dovessimo parlare della della nostra isola anche all'interno della nostra isola tant'è che sia io che Modesto Fenu quando era consigliere regionale abbiamo presentato proposte di legge che vanno nella direzione di modifica della nostra legge della nostra legge regionale poi magari spiegherò anche come perché magari si aprirà anche un dibattito sono del parere che in questo momento innanzitutto bisogna porre alcune questioni fondamentali uno la caccia non deve essere in discussione ed è l'elemento che deve essere fermo imprescindibile e che anche da qui deve emergere in maniera forte nel senso tutti coloro che parlano di chiusura della caccia stanno davvero capendo poco del ruolo dei cacciatori nella tutela dell'ambiente del ruolo dei cacciatori anche nella lotta che in questo momento ci ha visto partecipi un po' tutti alla pestesuina perché è da dire che anche dal punto di vista sanitario i cacciatori hanno dato una grandissima mano nei risultati che in questo momento sono agli occhi di tutti sulla questione della pestesuina e lo stesso ruolo dei cacciatori come elemento fondamentale dell'economia non solo in Sardegna ma anche in Italia visto e considerato l'indotto che creano ogni qualvolta ci muoviamo da una parte all'altra della Sardegna o da una parte all'altra dell'Italia è indispensabile in un momento di forte crisi economica in un momento nelle quali numerose piccole partite IVA vedono abbassare le proprie serrande quindi da questi presupposti io partirei e partirei dicendo che è indispensabile un'azione forte da parte di tutte le associazioni da parte di tutte le associazioni per andare a modificare la legge nazionale che è come è stato detto in precedenza un punto di riferimento purtroppo in questo caso anche per noi che stiamo andando a modificare o andremo a modificare o forse andremo a modificare la legge regionale è indispensabile riporre al centro della discussione la tutela ambientale vista e considerata anche come comparto come comparto dei cacciatori ed è indispensabile andare a cercare gli strumenti per uno dal mio punto di vista legare il cacciatore al territorio ma non con burocrazie inutili non con situazioni create ad hoc con veri e propri sentimenti anche veri e propri stati d'animo che tutti noi abbiamo ogni volta che andiamo a capire che qualcosa nel nostro mondo venatorio non va e allora personalmente penso questo la modifica della legge nazionale una pressione forte nei confronti dell'unione europea per la revisione degli studi anche sulla migratoria perché viviamo periodi e viviamo attualità ogni anno che nei momenti in cui arriva la migratoria la caccia la caccia purtroppo chiude e quindi una revisione seria dello studio nazionale sulla migratoria anche perché continuo a essere convinto che non tutta l'italia è uguale è una revisione a quel punto della legge regionale sulla caccia ma la legge regionale sulla caccia la proposta di legge che ho presentato in consiglio regionale su cui anche Marco mi ha dato una mano per diversi aspetti mira a modificare come legare il cacciatore al territorio questo è il tema perché è anche un tema della legge 157 del 92 mira legare il cacciatore al territorio per quanto riguarda la nobile stanziale ossia pensare di trovare alcune soluzioni e aprire una discussione da questo punto di vista la proposta serve a questo aprire una discussione da questo punto di vista che permetta ai diversi territori della Sardegna che purtroppo che anche in questo caso non purtroppo che anche in questo caso hanno diversi microclimi in tutta la nostra isola di andare ad analizzare effettivamente la questione della nobile stanziale che è un problema serio la questione del ripopolo del ripopolo per quanto riguarda la nobile stanziale è costituire un unico un unico un unico segmento di caccia per quanto riguarda invece la migratoria la questione degli ugulatti e tutte le altre tutte le altre specie che non sono legate a determinati a determinati criteri che le consentono anche di di andare avanti di riprodursi questo è questa è un po' la mia idea che è da sviluppare sicuramente che è da implementare però se noi rimaniamo fermi il rischio di rimanere fermi è il rischio che qualcuno decida per noi e siccome a me non piace che qualcuno decida per noi allora io dico apriamo momenti di discussione riflettiamo riflettiamo in maniera seria pensiamo anche ad alcune modifiche al di là delle appartenenze politiche che in questo momento poco contano su questo su questo tema conta il tema centrale e andiamo a tutelare un mondo che negli ultimi anni e non parlo solo degli ultimi 4 anni quindi con maggioranze anche diverse negli ultimi forse 30 anni ha avuto discriminanti e ha avuto penalizzazioni nonostante abbia svolto un ruolo essenziale per tutti gli aspetti che ho citato in precedenza quindi da questo punto di vista la mia disponibilità è piena Diamo la parola a Modesto Feno che ci illuminerà sulle sue posizioni a te Modesto Grazie Buongiorno a tutti intanto un ringraziamento a Marche Fisio Pisano e CPA per aver organizzato questo momento di confronto e di riflessione su una sventura che potrebbe abbattersi anche Sardegna come quella dell'istituzione degli ambiti territoriali di caccia una precisazione siamo in un contesto di cacciatori io sono cacciatore però io dico oggi in questo contesto io sono un ambientalista cacciatore è facile dire tra cacciatori io sono cacciatore sono contrario perché è un danno alla caccia contrario agli ambiti territoriali di caccia io invece in questo contesto dico e in qualsiasi contesto sono in grado di dimostrare che sono contrario agli ambiti territoriali di caccia perché è un attentato all'ambiente abbiamo avuto modo anche con Ignazio di confrontarci su questo tema e le esperienze che arrivano da quello che è il continente italiano perché noi amiamo chiamare l'Italia e l'Europa continente perché è una realtà diversa dalla nostra noi siamo un'isola siamo un'isola nel Mediterraneo che ha un suo ecosistema un suo climax e una sua fragilità ambientale che è diversa da quella del continente italiano quindi qualsiasi trattazione che riguardi l'ambiente va resa specifica a quella che è la realtà di un'isola in mezzo al Mediterraneo che è quella della Sardegna come quella della Sardegna questo perché questo perché nonostante i cacciatori siano numerosi quando c'è qualcosa che va male bisogna anche chiedersi sempre perché le cose stanno andando in modo diverso da come noi le abbiamo pensate e dobbiamo chiedercelo soprattutto a noi stessi a mio avviso tutto nasce da alcune considerazioni passate che anche i cacciatori hanno fatto che è quello di far passare il messaggio che la caccia fosse uno sport la caccia non è uno sport la caccia è molto di più la caccia è un istinto primario che fa parte del DNA dell'uomo che ha consentito al genere umano di salvarsi in tutti questi millenni di permanenza in questa terra e noi abbiamo il dovere di perpetrare questa arte questa arte che non è solo l'arte di cacciare ma deve essere per il futuro anche l'arte di preservare l'ambiente e le specie per le future generazioni e questo è a mio avviso il ragionamento che deve come dire far parte delle nostre riflessioni per il futuro perché il mondo della caccia ha necessità di fare un salto di qualità e lo dobbiamo fare assieme perché i cacciatori e chi ama la caccia non sono la maggioranza in questa società la maggioranza sono altri sono a volte quelli che io amo definire ambientalisti salutieri cioè quelli che di ambiente non ne capiscono nulla perché non l'hanno mai vissuto perché non lo conoscono però siccome guardano i documentari di quark quindi seduti in salotto pensano di poter esprimere la loro posizione sull'ambiente però queste persone anni fa sono entrati nei gangli vitali di chi andava a legiferare di chi condizionava le leggi e sono state prodotte tutta una serie di norme che non sono dettate da un ambientalismo razionale e dalla volontà di affrontare il tema dell'ambiente e delle specie e dell'esistenza dell'uomo nell'ambiente che vive ma della volontà di andare contrari alla caccia questa è l'unica volontà che ha spinto la 157 che hanno spinto le norme regionali che poi sono derivate dalla 157 inoltre noi in Sardegna abbiamo la brutta tendenza di pensare che tutto ciò che arriva dal continente italiano debba essere applicato anche da noi perché se l'hanno fatto loro dobbiamo farlo anche noi perché va bene anche da noi no, non va bene da noi perché noi siamo una realtà diversa io ho sentito le relazioni di chi arriva dalle altre regioni d'Italia e giustamente hanno posto l'accento sul fatto che in Sardegna gli ATC non sono stati ancora attuati e io mi auguro che mai lo siano e allora io mi appello proprio mi dispiace che sono andati via i due rappresentanti regionali con cui abbiamo condiviso anche un periodo insieme in consiglio regionale mi appello alla volontà politica e alla classe politica che spero cambi da qui a qualche mese per capire che in questo momento la Sardegna ha una straordinaria opportunità così come ce l'hanno detto tutti quello di far capire la differenza tra noi e il continente italiano quello di poter dire non applichiamo visto che sono andati male anche dalle altre parti gli ATC in Sardegna ma facciamo qualcosa di diverso perché è vero che un'esigenza esiste che è quella di affezionare di responsabilizzare o di responsabilizzare il cacciatore non sul territorio non sul territorio ma su un tema sull'ambiente questa è la responsabilità che noi abbiamo in termini generali e allora l'obiettivo a mio avviso quale può essere? l'obiettivo deve essere quello di far capire alla classe politica all'opinione pubblica che il cacciatore è una risorsa per l'ambiente che il cacciatore può rappresentare quello che in altre parti d'Europa hanno già fatto la sentinella dell'ambiente il custode della fauna selvattica affinché venga perpetrata anche per il futuro alle future generazioni questo è a mio avviso il messaggio che da incontri come questo e da questo incontro deve nascere e portato avanti per il futuro cioè far capire a tutti che i primi ambientalisti siamo noi far capire a tutti che noi possiamo svolgere un importantissimo ruolo di custodi dell'ambiente e di sentinelle della fauna selvattica e questo è il ruolo pubblico che ci attende per il futuro chiedere a chi ci governa di riconoscere un ruolo pubblico al cacciatore nella gestione dell'ambiente però per fare questo ci dobbiamo credere ci dobbiamo credere tutti assieme riflettere su queste cose io vi invito anche se ne avete piacere a leggere la proposta di legge che io assieme ad altri 34 consiglieri regionali avevamo presentato in consiglio regionale su questo tema perché questo è il motivo che ci consente a mio avviso attuando una sorta di progetto pilota in Sardegna sulla gestione dell'ambiente attraverso i cacciatori di non attuare gli ATC e quindi bloccare da subito intanto l'attuazione degli ATC ma sospenderli definitivamente non con una modifica della legge ma producendo una legge tutta nostra che contempli un ragionamento specifico sulla realtà ambientale della Sardegna sulla realtà ambientale della Sardegna che è diversa da quella del continente italiano io mi appello anche al presidente nazionale e ai presidenti delle altre regioni d'Italia affinché facciano capire questo messaggio in Sardegna si può applicare un progetto pilota di gestione dell'ambiente di gestione della fauna selvattica che può essere poi riprodotto nelle altre regioni visto che gli ATC sono stati un fallimento dappertutto che contempli le realtà oggettive del territorio specifico e che contempli una responsabilità del cacciatore non sul territorio ma sull'ambiente in genere questo è il messaggio gli organizzatori che ringrazio ancora mi hanno chiesto di stringere l'intervento mi attendono a Oristano io purtroppo vi devo salutare non posso stare con voi ancora mi ha fatto piacere essere qui e vi ringrazio per avermi ascoltato grazie Luigi viene dalle Marche signore io non volevo intervenire proprio perché dico cose che più o meno hanno detto tutti la realtà quello che voi chiamate il continente in Italia è questa cioè l'Italia degli ATC è un fallimento completo cominciando dalla Puglia che è la punta più bassa fino al Piemonte hanno in sé per sé questa legge il suo scopo l'ha raggiunto vi rendete conto che quando è stata fatta questa legge doveva diminuire i cacciatori da 2 milioni di cacciatori a 450 mila perché era compatibile con l'ambiente e questo hanno fatto ragazzi questo è ma sugli ATC perché è cosa specifica vorrei dire due cose primo che una volta istituiti gli ATC gli ATC per andare avanti e per autoconservarsi diventeranno la controparte dei cacciatori e non la loro gestione poi la 157 ha fatto una cosa ha messo si dice gli esperti tecnici praticamente ha obbligato a qualsiasi operazione i tecnici cioè dobbiamo servirci dei tecnici non abbiamo oggi più un'autonomia non dirigono più i cacciatori dirigono i tecnici ma direte voi ma i tecnici saranno i tecnici che sono esperti di caccia chi l'ha detto da quel che viene prodotto a me non sembra viene prodotto tutto il contrario tanto per dire ci abbiamo vent'anni fa venticinque anni fa quando non c'erano gli ATC avevamo parecchi cacciatori parecchia selvaggina parecchia mobilità venatoria ma gli animali era pieno dopo venticinque anni che ci sono gli ATC non abbiamo più né libertà né animali né cacciatori ditemi voi se questa è una cosa che è andata bene per la caccia la burocrazia la burocrazia la burocrazia noi siamo un paese che senza burocrazia cadrebbe come un castello di carte perché abbiamo messo la burocrazia dappertutto Marco mi diceva di dire come funziona da noi io sono un caposquadra e 30 anni che faccio il caposquadra sarebbe bene che smettessi perché sono diventato un ignorante insopportabile quindi sarebbe ora che qualcuno mi desse il cambio ma vi rendete conto che alla mattina per fare una battuta di cinghiale a parte che non andate a caccia dove vi pare ma questo può essere anche scontato perché sennò fra poco le squadre qualche volta fanno a schioppettate per le loro ma alla mattina se volete fare una battuta intanto dovete registrarvi tutti firmare tutti no? si comincia da noi alle 10 e non prima no? eh si tabella un'ora prima no? quando avreste la fortuna di ammazzare qualcosa qualche cinghiale e qui comincia il dramma non è che tanto per metterli a posto quello si fa in 10 minuti e il controllo prelievo del sangue insomma diventa una cosa enorme una cosa su cui qualcuno deve mangiare perché lavora eh hanno fatto nelle marche delle indagini su malattie inesistenti non esistono sono patologie che sono sempre state negli animali no? ma si fanno indagini qualcosa di nuovo perché si fanno perché ci sono i soldi dei cacciatori che lo permettono se no queste cose non si farebbero capito? quindi eh da unici protagonisti paganti i cacciatori insieme agli agricoltori cercate se potete io non lo so se voi lo potrete fare o se eh io spero che sia così evitate di ripetere delle esperienze dopo 30 anni che siete riusciti a mantenervi in queste condizioni evitate di ripetere anche voi delle esperienze che hanno falcidiato la caccia ma non hanno falcidiato solo la caccia hanno falcidiato tutto il mondo che gira intorno alla caccia grazie grazie Luigi Francesco De Ricco viene dalla Puglia cacciatore prima che avvocato o sbaglio cacciatore è nel tempo libero anche avvocato buongiorno a tutti grazie per l'invito a Marco a tutti per questo bellissimo convegno ma soprattutto più che bellissimo importantissimo ed interessantissimo io voglio cominciare il mio intervento con una domanda perché cioè perché quando in Italia qualcosa funziona noi dobbiamo cambiarla per forza la Sardegna abbiamo modo di vedere prima di parlare della mia Puglia è un'isola felice dal 92 è riuscita a mantenere integro il proprio territorio la propria capacità di autodeterminarsi è riuscita a mantenere integro il proprio patrimonio faunistico perché oggi noi dobbiamo mettere mani a qualcosa che funziona bene e soprattutto perché dobbiamo mettere mani a qualcosa che funziona bene copiando quello che altrove ha fallito cioè il problema chiedo scusa il problema è proprio questo cioè oggi noi vogliamo mettere mani alla caccia in Sardegna copiando quello che da tutte le altre parti d'Italia ha causato solo disastri disastri perché perché partono dalla legge 157 del 92 allora noi vogliamo rimodernare la caccia rifacendoci ad una legge di 26 anni fa cosa c'è da rimodernare se non cambiamo la 157 del 92 cosa vogliamo rimodernare nelle regioni nella mia Puglia il 20 dicembre con la legge 59 è stato compiuto un autentico misfatto in danno dei cacciatori perché hanno fatto una legge moderna hanno fatto una legge che tutelerà i cacciatori che tutelerà l'ambiente come adeguandosi alla 157 del 92 in toto e dov'è la modernità della legge più vecchia e più anacronistica d'Europa in materia venatoria non ci sono altre nazioni in Europa che hanno una legislazione venatoria così antica è questo il grave problema noi andiamo a modernizzare le leggi regionali adeguandole ad una legge di 26 anni fa in cui c'erano delle condizioni assolutamente diverse ci è stato detto nel 92 che quella legge era necessaria perché dovevamo superare il pronta caccia degli anni 80 perché negli anni 80 dopo il boom dei cacciatori dopo la prosperità economica del periodo tutti erano diventati cacciatori era uno status simbolo diventare cacciatore era sentirsi importante quindi la caccia era diventata con l'immissione di pronta selvaggina dobbiamo superarlo come? con gli ATC che sperparano i nostri soldi per andare a comprare i polli colorati a ripopolarli e farli mangiare dalle volpi è questo lo scopo che ha raggiunto la 157 del 92 che ci ha portato da 2 milioni di cacciatori a 700 mila con un trend in continuo calo ho sentito parlare prima qualcuno di è giusto legare il cacciatore al territorio storicamente questo legare il cacciatore dal territorio mi ricorda qualcosa mi ricorda le riserve indiane quando la gente è stata chiusa nelle riserve sappiamo tutti che fine hanno fatto gli indiani la loro terra non è più la loro terra non è stata mai più la loro terra mai più mai più andiamo agli aspetti meramente economici gli ATC sono un portafoglio di soldi che gestiscono gli altri e sperperano e sono sostanzialmente anche un qualcosa in cui sistemare l'amico politico trombato alle elezioni i rappresentanti degli enti locali l'ATC di Taranto ad esempio come tutti gli ATC della Puglia in seguito alla legge 29 del 2017 che ha previsto entro 10 giorni dall'entrata in vigore il commissariamento di tutti gli ATC in attesa della nuova elezione di un nuovo presidente il commissariamento bene è stato nominato nelle scorse settimane un commissario non è cacciatore non è mai andato a caccia non sa manco di che cosa stiamo parlando signori è arrivato e ha detto devo convocare le associazioni per capire che cosa bisogna fare cioè hanno tolto un presidente che stava là da 4 anni che pur nella mia contrarietà agli ATC era una persona che comunque stava là soprattutto perché era un cacciatore oltre che un caro amico mio era un cacciatore era lì più o meno sapeva di cosa stavamo parlando l'hanno tolto e hanno messo uno perché? perché nelle precedenti elezioni regionali era stato trombato un posto bisognava trovarglielo qualcosa bisogna fargli fare tanto paghiamo noi con i soldi nostri ma c'è da dire anche un'altra cosa in Puglia fino adesso fino alla nuova legge i componenti del comitato direttivo erano uno per ogni associazione venatoria tutti i cacciatori sì però amici miei non tutti i cacciatori hanno le competenze giuridiche di diritto le competenze necessarie per poter fare parte di un organismo così importante che deve programmare la caccia no? come vengono scelti tu di che associazione sei? X beh fai 100 tessere fai 150 tessere ti spetta il posto nell'ATC sbagliatissimi persone che sono nell'ATC e che non hanno mai detto una parola non hanno mai fatto una proposta non hanno mai detto niente si allineano alla corrente maggioritaria dobbiamo fare questo e alza la mano non lo dobbiamo fare e non alza la mano ecco perché la caccia deve essere gestita dai cacciatori ma realmente ma non con gli ATC ecco perché sarebbe veramente un misfatto introdurre qui oggi in quest'isola felice gli ATC gli ATC dividono creano il mercato delle vacche perché ci sono ATC della confinanti con la mia regione dove l'indice di densità venatoria dice ad esempio in Basilicata che possiamo ospitare 200 cacciatori provenienti dalle regioni vicine bene arrivano 500 domande si fa il sorteggio io non l'ho mai visto un sorteggio però vi posso garantire che ogni anno io vengo vengo preso per andare a caccia in Basilicata sono molto fortunato io ogni anno riesco ad essere sorteggiato tra virgolette per andare a caccia in Basilicata io faccio l'avvocato ho un mio giro di amicizie ho un mio giro di contatti e vengo sorteggiato poi ci sono gli altri che non vengono sorteggiati e poi ci sono quelli che vengono sorteggiati perché bussano dietro la porta del funzionario con i piedi anziché con le mani con la cassetta del pesce con questo quest'altro è questo che si crea è questo che si crea è una porcheria noi siamo cacciatori abbiamo bisogno della nostra libertà il migratorista io prevalentemente faccio caccia ai tordi ai colombacci alle beccace e il migratorista deve andare a trovare la selvaggina dove sta non dove mi dicono loro non nel confine non nel recinto io mi sento in gabbia io non tengo manco i miei cani in gabbia e vogliono mettere me in gabbia altro problema fondamentale altro problema fondamentale gli ATC i confini la densità venatoria che bella questa parola la densità venatoria che significa che quel territorio può ospitare cento cacciatori bene ma in quel territorio che ospita cento cacciatori mica tutte le zone sono buone sono vocate per l'attività venatoria no? ci sono delle zone che sono particolarmente buone delle zone dove tu vai metti tre cartucci o due quando te ne vai le togli e te le metti in tasca e torni a casa quei cacciatori che sono di quel recinto andranno tutti nella zona buona noi creiamo una pressione venatoria che non è più distribuita perché io che abito a Taranto se so che in quella zona ci sono diecimila amici che la mattina fanno a gara che arriva alle tre e mezza alle quattro alle quattro e mezza non ci vado prendo la macchina me ne vado a Bari me ne vado a Lecce me ne vado a Brindisi vado dove voglio sto distribuendo sul territorio regionale la pressione venatoria se io sono circoscritto in quel recinto la pressione venatoria e quindi il grosso danno per la selvaggina e il grosso danno anche per gli utenti per gli agricoltori è molto di più non dimentichiamoci che noi quando andiamo a caccia siamo ospiti della natura prima e dei proprietari dei fondi dopo quindi se in un fondo se da qualche parte ci sono due cacciatori è un discorso forse il contadino riesce pure a fare qualche lavoretto per i fatti suoi ma se ci stanno 50 cacciatori un cacciatore ogni tre albero e beh non credo che quello riesca manca a lavorare poi l'aumento della burocrazia l'aumento della burocrazia tanti ATC prevedono che vada fatta la prenotazione telematica io sono avvocato ho la PEC ho la segretaria io non so fare niente ma anche il processo civile telematico c'è la mia segretaria che mi gestisce tutto ma quanti di voi hanno la PEC e hanno la possibilità di poter inoltrare la prenotazione telematica qualche peccatuccio ce l'abbiamo tutti ma quanti tra di voi hanno la PEC e la prenotazione telematica quanti tra di voi hanno la possibilità di fare la domanda parlo sempre della Puglia perché mi hanno detto di parlare della mia regione di fare la domanda alla TC di Taranto alla TC di Bari alla TC di Lecce alla TC di Brindisi alla TC di Foggia e quanto mi costa e quanto vi costerebbe creare confini creare limiti questi confini questi famosi confini naturali che significano? la Sardegna ce li ha i confini naturali è una terra così bella ha tanti confini naturali dove ti giri vedi i confini naturali c'è il mare perché? perché mettere mani a qualcosa che funziona? detto questo detto questo mi ero riproposto di essere breve e quindi finirò bisogna modificare la 157 nel 92 dopodiché potremo parlare di modificare le leggi regionali ma nel frattempo non fatevi mettere le mani addosso oggi speriamo che da questo convegno a cui vedo tante facce interessate parta un movimento che possa portare progressivamente in Italia a cambiare la legge 157 nel 92 non per mettere gli ATC in Sardegna ma per toglierli anche nelle altre parti d'Italia grazie grazie Francesco Antonio Mura Antonio viene dal Piemonte sentiamo le sue esperienze buonasera anzi buongiorno sono fatti i miei io sono dentro un ATC non posso mica parlare con te scusa vabbè a parte gli scherzi qui probabilmente io sarò anche l'ultimo e come sempre qui hanno detto tutti di tutto e di più tutte cose molto giuste in Piemonte in particolare noi abbiamo una situazione veramente grave qualcuno prima degli amici ha detto ma il Piemonte non viene giù a fare questi campionati dei cani e gli ho detto sì abbiamo un piccolo problema in Piemonte che con questi ambientalisti animalisti 5 stelle quanto gli va dietro ci troviamo a uscire a organizzare una garetta tra amici con i cani non una Sant'Uberto così e ci troviamo gente con le pentole fischietti i gradini che ci dicono ma l'abbiamo alla lunga non abbiamo fatto le gare le gare non una gara e abbiamo cominciato a denunciare questa è la prima roba che nessuna associazione a Torino riesce più a fare una provinciale una gara ne abbiamo fatta una per mandare dei soldi ai canili abbiamo diversi canili che avevano dei problemi e abbiamo detto beh facciamo una raccolta fondi beneficenza abbiamo dovuto chiamare i carabinieri non c'è stato verso malgrado sapevano che era no non c'è stato verso questa è una cosa la 157 che dicevano loro e giustamente hanno detto di tutto e di più il recinto degli indiani come diceva qui il nostro amico avvocato che mi ha fregato la battuta perché è giusto è vero voi siete veramente in un posto splendido da anni avete la libertà che noi non abbiamo più da 20 e passa anni una cosa non ho sentito che forse qualcuno non sa gli ATC spendono i nostri soldi è vero perché noi per andare a caccia dobbiamo pagare non solo lo Stato non solo la Regione ma anche l'ATC però noi ci aspettano perché ha detto giustamente il dottore che noi abbiamo diritto diritto che paghiamo perciò non è più un diritto un dovere uno scusa due questi soldi a chi vanno realmente questi soldi vanno all'ATC che a sua volta che dovrebbe usarli per pagare danni ai contadini e via dicendo e mantenimento del personale viene ribaltato alla Regione ma la Regione questi soldi mi cari signori non li usa per la caccia dice ah sì ci sono i soldi per i danni adesso ve li diamo ve li storniamo sono già l'ATC lascia l'ATC ah no perché vanno tutti dentro un soldo al danaio unico calderone unico perché se a volte abbiamo lo sfalto che si è rotto allora li prendiamo da lì come lo sfalto che si è rotto che c'entra lo sfalto e sì perché è una cosa che riguarda tutti allora questi soldi non vengono usati solo per i cacciatori o per l'agricoltura o per no ma vengono usati di chi comanda a Torino oggi una settimana fa ho parlato con il responsabile collega del dottore che mi dice non sappiamo come pagare gli stipendi gli stipendi non i danni all'ATC dei animali allora noi ci troviamo l'agricoltura perché la regione diceva dovete seminare dovete fare ma ci sono più le stradine perché hanno arato addirittura sulla stradina per avere un metro in più il contadino che sono fenomeni e questi sono i primi fenomeni della caccia che non va bene cosa buttano non abbiamo più i passeri altro che i bresciani che sparano gli uccellini qui abbiamo l'agricoltura con delle porcherie dentro che la regione fa allora prima di occuparsi di caccia chiamate il cacciatore chiamate dei tecnici veri come diceva giustamente il collega vedete perché gli animali muoiono non per la caccia non per il cacciatore ma vedete perché ci sono le acque in parte perché il cacciatore non mi dimenticate che è anche un pescatore se succede qualcosa in giro il primo che dice ma come mai il fiume è pieno di pesci o è un pescatore o è un cacciatore non si scappa da lì non è la guardia volontaria che va in giro non è l'ecologista che va in giro smettiamola allora giustamente come ha detto qualcuno prima se ci deve essere una persona competente che poi se è laureato bene se non è laureato a me non me ne frega niente ma 26 anni fa quando erano nati i primi ATC per i primi 10 anni funzionavano bene ma perché funzionavano bene? perché dentro c'era mio nonno mio zio lo zio dello zio che cosa facevano? gli agricoltori andavano nel bosco a raccogliere le foglie per mettere sotto le bestie non che adesso gli danno fuoco non si fa più adesso si taglia tutto si lascia la legna lì perché deve marcire perché hanno deciso che deve marcire ma di marcire cosa? poi vengono sui rovi partono gli incendi c'è un'innetta mi butti l'ozono sopra mi metti l'ossigeno con i pallini bianchi sì ma come lo becca un animale lo va a beccare è morto passa la stessa lepre che passa sopra ai piccoli si bagna il pelo l'altro va a ciucciare allora non è più un problema di volpi io a Torino ho in mano tre zone di addestramento di cattura CRTC che guarda caso un collega proprio della provincia cacciatore che all'epoca adesso è tre mesi che è andato in pensione aveva deciso che li lasciava a un gruppo di cacciatori secondo lui esperti uno per associazione scelti da lui tra i quali c'era anch'io e ci ha dato questi cinque riservini in gestione invece da lì al latte ce li ha dati a noi e abbiamo ancora cinque sia il problema dove sta che cambiando le province ci siamo trovati con del personale sì sì nominato fatto avvocati che non si sa bene perché sono finiti lì dietro una scrivania tecnico faunistico che poi si scopre che non ha nel titolo né niente però era amico di giustamente e ci troviamo a il pianofonistico scusate sono 14 anni che non c'è che facciamo ah no ma lì è compito della regione come è compito della regione la regione domanda tu provincia lo fai ma non abbiamo i soldi da una parte non ci sono i soldi dall'altra parte non ci sono i soldi l'ATC sono tutti chiusi con i loro bei personaggi che era a volte presidente a volte no i presidenti che hanno preso posizione hanno tutti gli amici o politici o sono loro direttamente il politico ma sono contro la caccia e noi vogliamo andare allora la domanda che cosa vogliamo fare da grandi io vi dico io prendo il fucile lo appendo lì fatemi vedere come siete capaci voi animalisti perché io mi sento un ambientalista in quanto sono nato in mezzo di cacciatori allevato da cacciatori sono un giudice di tutte e quattro di cinque associazioni ho fatto il giudice andando a dare l'esame sono un appassionato di falconeria che anche voi qui un argomento che poi verrà portato avanti perché ricordate che chi va a caccia va a caccia col fucile ma va anche può andare anche col falco nella legge in tante cose brutte c'è anche qualcosa di bello e che io sto portando avanti grazie al CPA e questo non è la sede però anche questo è un altro discorso che è da portare avanti lavoro possiamo andare anche noi con la falconeria ci sono tantissime olus però sono olus poi si scopre che fanno attività di soldi allora non sono olus ma qui noi abbiamo no qui o abbiamo cose serie o non le abbiamo oggi come siamo messi qua voi scappate dall'Italia dato che siete già abbastanza lontani ve lo dico qualcosa scappate da questo discorso perché io finché ho potuto andare in tutto il Piemonte pagando 173 euro e 16 andavo in tutto il Piemonte perché lo Stato diceva che il territorio era mio quanto suo oggi arrivi tu ah no perché secondo me tu ah no tuo cane fa pipì e il tuo gatto fa se c'è il cacciatore ci sono i cacciatori mettiamo delle persone preposto ambientalista io faccio l'ambientalista sono pescatore pesca caccia sono un cinofilo da sempre mi piace faccio anche la falconeria sono un allevatore cioè come mi vuoi chiamare non posso dire che sono un ambientalista ho il tempo per lavorare che ho mai trovato io il tempo no appunto la domanda è il tempo per lavorare ce l'avrò alla fine di questo discorso capito perciò adesso vi lascio chiudo un attimino questa cosa perché poi mi lascio prendere queste cose mi fanno arrabbiare e non so chi è che dovremmo dare la voce comunque mi raccomando fatevi l'esame di coscienza finché potete stare a casa vostra e comandare a voi fatelo fatelo in tutte le maniere ve lo chiedo ok grazie grazie Antonio ridiamo la parola al presidente Fiumani dopo di che passeremo al dibattito dopo aver sentito Alessio e Antonio Casula preparatevi la lezione grazie io approfitto per rubare un attimo l'attenzione dell'assemblea di questo convegno scusate su un concetto che a noi è ben noto è stato ribadito da qualificati interventi e quindi io non dico nulla di eclatante quando dico che il cacciatore e il pescatore sono degli ambientalisti dei veri ambientalisti perché amano l'ambiente senza ambiente non c'è caccia senza ambiente non c'è pesca senza ambiente non ci sono le nostre passioni e purtroppo nel nostro paese questo concetto dell'ambientalismo è stato declinato in senso negativo perché si è arrivati addirittura all'integralismo ambientalista e il mondo ambientalista italiano è un mondo che affronta le tematiche caccia e pesca in senso dogmatico cioè sono contro la caccia contro la pesca e non entrano neanche nel merito per fortuna in Italia non tutte le associazioni ambientaliste sono uguali e incominciano a esserci delle divisioni delle diversificazioni importanti noi questa mattina ospitiamo il presidente nazionale di ambiente vita Benigno Dorazio che presiede un'associazione che vede nel cacciatore come la figura importante per la tutela dell'ambiente è iniziata una collaborazione con questa associazione ambientalista quindi noi non ci vergogniamo anzi siamo orgogliosi che finalmente ci sia un'associazione che voglia collaborare anche in maniera strutturata stretta con i cacciatori e mi permetto però di sottolineare la differenza con quello che ha fatto la Federcaccia perché anche la Federcaccia ha fatto un accordo con un'associazione ambientalista ma l'ha fatto con le gambiente allora se noi andiamo a vedere quello che pensa le gambiente della caccia a me mi si drizzano i capelli perché sono fondamentalmente contrari alla caccia se noi andiamo nel sito di Ambiente Vita e andiamo a valutare studiare attentamente cosa che ovviamente abbiamo fatto prima di iniziare questo rapporto di collaborazione e vediamo quello che dice Ambiente Vita sulla caccia sembra che quella pagina l'abbiamo scritta noi quindi oggi noi abbiamo la possibilità di incominciare a dire all'opinione pubblica guardate che la verità che vi hanno propinato fino adesso non è la verità perché ce n'è un'altra quindi oggi con piacere passo la parola all'amico Benigno per un saluto grazie buongiorno a tutti non pensate che io mi sia messo il giacchino qui stile cacciatore per così ingraziarvi qualche vostro diciamo pensiero ai nostri confronti ho dimenticato la giacca nella macchina all'aeroporto e quindi ho messo questo però l'ingraziamento della vostra così sensibilità nasce come ha detto Alessandro da una storia ambiente e vita fondata dall'onorevole Sospiri che è morto qualche anno fa e diciamo rispose sul finire degli anni 90 all'ambientalismo come ha detto bene Alessandro l'integralista di cui alcune sigle già citate facevano sicuramente parte si è fatta la legge sulla caccia e guardate come le cose vanno di pari basso si fa una legge sui parchi completamente integralista si fa una legge sulla caccia che non ha nulla a che vedere con quella situazione per cui sono due mondi divisi due mondi diversi i cacciatori io all'epoca ero in consiglio regionale venivano in consiglio regionale a dire non fate i parchi o comunque limitatene le estensioni eccetera eccetera erano due mondi completamente diversi quando nasce ambiente e vita nasce con l'idea di superare con la caccia con la pesca con tutte le attività umane nasce con l'idea di superare questo dualismo che poi di fatto non c'era e non ci poteva essere poi magari diciamo perché e quindi lo slogan di ambiente e vita è l'uomo al centro del sistema ambiente cioè un ambiente vero sano non può essere così contemplato come se fosse una cosa diversa dall'attività umana se nell'ambiente noi non integriamo attività umane che oggi andiamo a definire sostenibili evidentemente quell'ambiente rischia di fare danno faccio un esempio molto diciamo calzante in questo senso la nuova legge sulle foreste che è stata fatta recentemente parte dall'assunto che le foreste vadano gestite dall'uomo non possono essere lasciate lì perché se vengono abbandonate poi è più facile fare incendi o fare altre cose eccetera eccetera quindi il tema è come integrare l'uomo nel sistema dell'ambiente la nostra associazione nel suo DNA al punto 4 dello statuto contempla proprio la come dire l'attenzione verso le attività umane verso la storia le culture e le tradizioni locali questo significa che nella storia dell'uomo nella storia nella nostra tradizione noi siamo arrivati agli anni 2000 probabilmente con una natura incontaminata in tante parti siamo arrivati con la presenza sana dell'uomo con la caccia con la pesca che erano gli strumenti per potersi alimentare non è che ce n'erano altri qualche anno fa per cui come si può non pensare che queste attività umane piaccia o non piaccia agli animalisti più che agli ambientalisti queste attività umane non possano non debbano integrarsi questo è il tema di fondo su cui dobbiamo ragionare quindi se da un lato voi giustamente chiedete la riforma della 597 per la caccia noi chiediamo la riforma della 496 del 91 sui parchi perché queste cose queste cose vanno vanno di pari passo certo mi viene un po' da sorridere perché mentre noi parliamo di riforme che quindi i governi dovrebbero fare in Italia non abbiamo i governi abbiamo i missili che volano in Siria e magari i missili che volano dai singoli partiti insomma è anche difficile trovare un interlocutore in questo momento però sappiamo che tra le forze politiche ci sono quelli più sensibili a questi temi allora qual è il ragionamento che noi facciamo noi crediamo che ci possa essere una caccia etica una caccia sostenibile ed è nell'interesse di tutti guardate vi faccio un esempio molto semplice la Fiat la FCA è dovuta passare dalle macchine diesel alle macchine elettriche lo farà entro il 2020 non è che lo fa perché gli conviene lo fa perché è una necessità noi se vogliamo tutelare salvaguardare le nostre città dobbiamo togliere l'inquinamento altrimenti moriamo tutti di cancro o qualcosa del genere non è che abbiamo scelta su queste cose e quindi non abbiamo scelta anche quando andiamo a fare affrontare altri temi se non affrontare sul lato della sostenibilità se la vostra associazione ha già detto caccia pesca e ambiente ha già colto nel suo DNA nel suo nome questa strutturazione quest'idea di andare a cogliere un meccanismo unitario con cui affrontare il tutto io poi su questo tema quindi siamo d'accordo siamo d'accordo su tutti quindi con Alessandro che ci siamo incontrati abbiamo detto facciamo una convenzione tra di noi per fare un tavolo comune e vedere quali possono essere politiche ambientalmente riconoscibili o sostenibili per la caccia insieme facciamole scriviamole insieme proponiamo insieme le cose che vogliamo proporre su questo argomento sulla caccia ma ripeto anche sulla pesca perché lì c'è ancora di più da lavorare in questo senso quindi possiamo lavorare insieme dobbiamo trovare i punti di convergenza quindi noi siamo pronti siamo disponibili a poter sottoscrivere questa convenzione con voi perché dobbiamo le associazioni devono lavorare su questi temi e proporre poi all'istituzione la risoluzione magari dei problemi un'ultima cosa voglio dire su questo argomento ho sentito che il cacciatore deve essere responsabile l'ambiente guardate per me il cacciatore deve fare il cacciatore cioè non deve divertirsi andare a fare quello che deve fare noi siamo noi le associazioni le istituzioni che gli dobbiamo dire queste sono le regole questo è il parametro dentro cui tu ti muovi gli abbiamo detto questo nel modo più semplice possibile più semplice possibile e dopo di che il cacciatore fa il cacciatore ci può andare nei giorni alterni quando volete però dobbiamo stabilire delle regole certe in modo da farli insomma fare il loro lavoro la loro passione in modo tranquillo e sereno perché devo sapere che cosa vado a fare no non li dobbiamo ingolfare con tanti ragionamenti tanti schemi tante cose mettiamo delle cose semplici e vi faccio un ultimo esempio ho partecipato in Umbria a un convegno patrocinato dalla CIC il vostro organismo internazionale di riferimento dei cacciatori loro hanno ricreato in Senegal una zona umida di 50.000 ettari una cosa enorme zona umida ovviamente lo fanno anche con il spirito di andare a cacciare ma voi mi dite che cosa c'è di più ambientalmente riconoscibile che creare una zona umida in Senegal capite che voglio dire la stessa cosa con lotti più piccoli con cose diverse le possiamo fare in Italia quindi anziché sperperare soldi in commissioni e contro commissioni lavoriamo per creare dei progetti in cui siamo tutti contenti di poter dare una mano all'ambiente e soddisfare le legittime aspettative di chi da sempre ha nel suo DNA l'idea di cacciare l'idea di rifocillarsi attraverso la selvaggina questo è il tema quindi ci sono cose da fare più che cose da dire ci sono cose su cui lavorare più che cose da declamare nelle assemblee pubbliche allora su questo lavoriamo insieme CPA e Ambiente in Vita per darvi qualche risposta nel nostro piccolo che possa andare un po' bene a tutti grazie Alessio Pasella presidente regionale movimento sardo pro territorio un cordiale saluto a tutti un benvenuto agli ospiti che provengono dalla penisola e un grazie a Marco e al CPA che ha organizzato questo importante convegno per far emergere le importanti esperienze maturate nelle varie realtà delle regioni dell'Italia è emerso un quadro desolante un quadro sconcertante altamente negativo per quanto riguarda la realtà ATC noi siamo in lotta come associazione meglio conosciuti come antiparco dal 92 in lotta contro i parchi contro le anche contro i piani di gestione di SIC e ZPS e poi negli anni 90 e devo dire una cosa che anche questa volta anche in questa occasione corre l'obbligo riaffermare la totale contrarietà come organizzazione perché assieme al CPA Movimento Sardo Proteritorio e CPA da anni hanno condotto importanti battaglie in Sardegna e proprio contro gli ATC e contro i piani faunistici provinciali e regionali abbiamo condotto delle battaglie nel nord Sardegna in questi ultimi anni anche oggi riaffermiamo la nostra totale contrarietà il nostro totale dissenso contro l'istituzione ATC contro il recinto contro il suo organo di gestione e devo dire questo che l'istituzione ATC non coinvolge solo noi cacciatori io ho 43 anni di portodarmi devo dire una cosa ho sempre svolto l'attività venatoria sono sempre andato a caccia nel rispetto delle regole però in totale libertà non certamente in quelle realtà che sono emerse oggi nelle varie regioni e quindi l'istituzione ATC perché no perché entra in collisione con la nostra cultura di Sardi noi vogliamo continuare a essere protagonisti del nostro ambiente liberi protagonisti del nostro ambiente nel rispetto certamente delle regole e del libero convivere civile democratico però siamo anche contrari perché l'istituzione ATC coinvolge non solo la caccia ma anche e soprattutto la proprietà privata perché se dobbiamo portare la caccia a pagamento beh a quale titolo con quale legittimazione si pretende a livello nazionale un governo nazionale lo Stato la regione oggi pretende di istituire organismi di gestione all'interno di proprietà private all'interno di quelle proprietà che spetta a noi gestire quindi ci sarà il totcome contro i parchi contro gli organismi di gestione dei parchi e abbiamo vinto importanti battaglie in Sardegna su questo punto assieme al CPA noi non intendiamo assolutamente lasciarli passare costi quello che costi noi abbiamo sempre condotto le nostre battaglie in modo civile democratiche anche talvolta in modo molto vivace a volte la vivacità serve serve e quindi non intendiamo assolutamente all'interno delle proprietà private ma anche nei demani civici dei comuni permettere in nessun angolo di Sardegna istituzioni di ATC perché vanno contro il nostro esercizio di libertà di Sardi liberi e protagonisti del nostro ambiente grazie 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 Alessio Mauro te la senti l'avvocato Mauro Cucu Antonio pazienza dai e poi dicono che gli avvocati sono troppi io ho fatto un po' una piccola ho fatto un piccolo sogno poc'anzi ho pensato a una persona assolutamente strana al mondo venatore a queste questioni che fosse calata qua a ascoltare i nostri discorsi la prima cosa che mi è venuta in mente è che avrebbe detto abbiamo da un lato un discorso istituzionale che io ho apprezzato molto di 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 Gnazzo Tolu altri discorsi altamente qualificati ma molto passionali come i nostri e come quello che avrei fatto io forse io sarei stato ancora ancora più passionale però forse quello che ci ci separa dall'istituzione e l'abbiamo ne abbiamo parlato molto spesso con Marco in questi in questi mesi in cui abbiamo condotto alcune battaglie insieme è proprio il fatto di non riuscire a leggere non riuscire a leggere l'aspetto istituzionale perché molto spesso siamo portati a seguire solo la nostra passione e allora nel momento in cui noi cerchiamo di astrarre di sollevarci dal nostro istinto venatorio e studiamo quelle che sono le problematiche vere istituzionali che chi non è cacciatore non sente allora sì che riusciamo a portare avanti una lotta una battaglia che possa essere oltre che utile per noi anche credibile a livello istituzionale è per questo che probabilmente nel nostro interno dobbiamo continuare a sollevare il livello perché ci sono tanti soggetti che devono essere tutelati dalle nostre battaglie che siano contro gli ATC o contro tanti altri aspetti perché oltre la passione c'è anche chi quotidianamente manda avanti una famiglia attraverso le attività venatori e correrate non dimentichiamoci che ci sono tanti armieri che sono che sono ovviamente non solo interessati ma che hanno non solo la passione ma anche la necessità familiare di portare avanti una una lotta che non possa far morire questa passione e loro sono probabilmente quelli da cui noi andiamo molto spesso quando dobbiamo acquistare cartucce ma anche i punti di riferimento per tutti gli aspetti che dobbiamo condividere e per tutte le lotte che dobbiamo fare non dimentichiamoci che poi ci sono tantissimi altri operatori del settore che devono essere tutelati quindi per quello la battaglia non è solo passione ma istituzione economia è tutto quello che ruota intorno alla nostra vita secondo momento secondo flash che avrebbe avuto questa persona lanciata qui in mezzo è che è vero siamo tutti appassionati ma siamo divisi perché non abbiamo un solo interlocutore ma andiamo tanti interlocutori che hanno interessi differenti e quando noi facciamo queste battaglie vorremmo poter avere al nostro fianco anche i rappresentanti delle altre associazioni che purtroppo non ci sono ora io non credo e non penso che queste battaglie non le condividano ma probabilmente non le condividono nella misura in cui comunque non le sentono nella misura in cui le sentiamo noi noi le sentiamo da persone che vanno la mattina a caccia che vorrebbero continuare a farlo come l'hanno sempre fatto loro magari come diceva non ricordo chi in un intervento le vedono come quelli che stanno un po' più in alto e quindi magari oltre che come una modalità per tutelare l'aspetto venatorio la vedono anche come una questione di interesse politico di poltrona di poltrona il mio il mio dubbio è che il mio dubbio è che probabilmente lì non ci sia più l'interesse a tutelare la base ma quanto a tutelare il il capo e ultimo ultimo flash che in realtà mi è venuto in mente quando stavo pensando a quel a quell'amico che è catapultato qui è che un cacciatore sardo sembra che viva in un mondo perfetto allo stato mentre questo non è cioè noi non siamo in un paradiso probabilmente eravamo in un paradiso 30 anni fa 35 anni fa io forse 20 anni fa io ricordo io ricordo 20 anni fa io ricordo io ricordo quando 20 anni fa ho iniziato ad andare a caccia ho iniziato forse un po' prima andare a caccia seguendo le orme di mio padre quando avevo 12-13 anni e allora la nostra le nostre campagne erano totalmente diverse da oggi quindi noi se dobbiamo pensare a fare qualcosa non dobbiamo pensare a mantenere quello che abbiamo adesso ma dobbiamo pensare a riportare l'ambiente ad una situazione in cui era qualche anno fa perché oggi tendenzialmente abbiamo a livello sia ambientale ma sia anche istituzionale e concludo una situazione sicuramente non non ideale l'unica possibilità è che magari non abbiamo il balzello degli ATC e non abbiamo questi recinti odiosi che ci vorrebbero mettere però sicuramente ne abbiamo visto tutto cosa è successo quest'anno abbiamo una situazione ambientale che consente per esempio di chiudere la nobile istanziale perché a livello istituzionale non si va a curare di quello che è il territorio sardo e per questo che è qui veramente concludo io penso che si debba sollevare il livello della della battaglia non è solo una questione di scendere in piazza e va bene non è solo una questione di gridare no agli ATC e va bene ma anche una questione di creare i gruppi di studio per poi andare a portare le proposte concrete che possono portare un miglioramento un miglioramento attuale della nostra situazione detto questo io spero che per questa legislatura non ci siano e non ci siano gli ATC per poter avere ancora più tempo per organizzarci però sicuramente la battaglia deve proseguire e deve essere probabilmente fatta in maniera ancora più più importante fino a chiudere fino a chiudere e portare a casa il risultato che tutti quanti vogliamo ottenere ossia la modifica della 157 è l'accantonamento definitivo degli ATC grazie chiedo scusa se mi sono di lunga grazie Mauro Antonio Casula presidente dell'autogestite di Macomera ex presidente allora io invidio un po' l'amico pugliese perché ho detto che è un cacciatore e l'avvocato per passatempo nel poco tempo libero che mi lascia la forza a parte le battute vorrei fare due considerazioni e una domanda le considerazioni su ciò che ha detto il signor Tolu lui nella sua conclusione ha detto che si augura che la giunta il consiglio in questi ultimi mesi prenda a mano a questa legge e ci metta a mano dal suo punto di vista logicamente io mi auguro che la giunta e il consiglio in questi ultimi mesi pensino ai giovani al lavoro alla sanità ai trasporti che da cacciatori dico che vengono prima della caccia poi ci penseranno i nuovi arrivati seconda considerazione nella sua descrizione degli ATC ha detto che uno dei capi saldi degli ATC sono il legame tra cacciatore e territorio io per spiegargli il contrario non vado molto lontano faccio il mio esempio io sono di Macomel siamo circondati su tre lati da due province nella distanza di 5-6 km dove sono arrivati gli ATC io non posso andare nella mia vigna a cacciare molti di noi nei nostri territori privati non possiamo andare a cacciare quindi ci vorrebbero costringere ad andare a caccia a Sant'Odoro a Nuoro a Budoni a Oliena a Dorgali dove noi culturalmente e storicamente non siamo mai andati noi nella maggior parte di noi sì c'è qualche eccezione ma non c'è il Ronaldo il Messi la situazione che è un fuoriclasse è nato così e va a giocare a calcio la maggior parte di noi siamo figli nipoti parenti di cacciatori vecchi io sono andato a caccia perché mio padre era cacciatore il padre era cacciatore abbiamo conosciuto la caccia da bambini e l'abbiamo imparato è la tradizione e noi vogliamo io mi lotto lotto più che altro perché la caccia rimanga storia e tradizione e gli ATC sono il contrario la domanda che vorrei fare vorrei una risposta agli amici continentali io vengo da Macomer e lo sappiamo inutile che ci nascondiamo che al centro Sardegna specialmente il nostro capoluogo c'è la parte di cacciatori talebani sardi che sono pro ATC e non nascondiamoci che le loro motivazioni la loro motivazione è più che altro una non vogliamo gli stranieri non querimos o scampi da anessos allora io egoisticamente potrei dire la stessa cosa specialmente in questi ultimi anni siamo circondati molte volte dobbiamo alzare le mani e dire basta ci arrendiamo ma non per l'ATC o per l'ATC no la causa è questa benedetta lotta alla PSA che ha fatto queste zone rosse e zone bianche allora vorrei che si spiegassero gli amici continentali ai nostri talebani pro ATC quanto costa un ambito territoriale l'ATC che dovrei essere io quindi dovrebbero essere i talebani amici noresi è forse il più grande uno dei più grandi della Sardegna con la densità io qualcuno di noi specialmente i nostri rappresentanti dice che siamo 40.000 in Sardegna siamo molto in meno perché nei 40.000 ci sono tutti quelli che hanno abbandonato 2, 3, 4, 5 anni fa e quindi nelle migliori delle ipotesi l'ATC di Nuoro sarà composta da 5.000 nel migliore dei posti 5.000 cacciatori bisognerebbe dire a loro che forse per mandare avanti un ATC ci vorrebbero ci vuole tanta gente che venga da fuori che paghi e quindi si ritorna al punto verranno i ricchi andranno a cacciare i ricchi e forse ci saranno campi danesi che arrivano da fuori molti di più di quelli che arrivano da adesso grazie se qualcuno vuole intervenire apriamo il dibattito poi Pino allora io mi chiamo perché non mi conosce Sandro Corvino vengo dalla provincia dalla nuova provincia del sud dalla nuova provincia della nuova provincia del sud Sardegna ex provincia Carboni Iglesias allora sarò molto breve perché voglio lasciare spazio anche agli altri però due cose sono ritengo di fondamentale importanza da dire la prima parto subito da un ringraziamento al CPA Sardegna e al CPA nazionale nella figura del nostro presidente Marco Fisopisano e di Antonio Fiumani presidente nazionale e presidente e presidente e presidente nazionale regionale ma perché questo ringraziamento tutti gli altri componenti anche al componente che giustamente qualcuno ha detto ha avuto coraggio a presentarsi in un ambiente contro dove tutti sono contro gli ATC solo lui è favorevole all'ATC che è il commissario l'attuale commissario della provincia del sud di Sardegna ma questo ringraziamento perché ritengo doveroso al CPA lo ritengo doveroso per due parole che chi mi conosce sa io ne parlo sempre lo dico sempre senza informazione e formazione noi siamo destinati a scomparire alla base di tutto sta l'informazione e la formazione come l'abbiamo con un convegno come quello di oggi l'informazione e la formazione perché se ciò fosse avvenuto anche per altre vicende vedi i parchi che vogliono istituire o che sono già stati istituiti ad eccezione della grande battaglia che si è fatta assieme ad Alessio Pasella per il parco del Genargento non sarebbero stati istituiti vedi Gutturumano e così via dicendo gli ATC l'abbiamo visto cosa sono sono esclusivamente un danno per tutto l'ambiente sardo ma io mi domando ma il politico sardo c'ha ben presente che vuole istituire gli ATC in una regione dove tutti tutti quanti gli abitanti della regione sono un quartiere di Roma ma stiamo scherzando veramente cioè volevano fare addirittura 16 ATC che grazie alla modifica delle province sono stati ridotti a 8 in una regione dove tutti quanti messi assieme siamo un quartiere di Roma io credo che sia una cosa fuori da qualsiasi logica poi uno può anche non credere a quello che dicono che hanno detto tutti gli amici continentali ma se si legge la stampa se va a leggere la stampa sa cosa è successo cosa è successo con questi ATC denunce denunce e contro denunce basta danni danni e danni allora da qui qualcuno ha detto giustamente non devono istituire gli ATC in Sardegna ma dalla Sardegna che noi siamo contratti dell'ATC dobbiamo fare in modo che vengano anche aboliti nel resto dell'Italia nel resto come noi chiamiamo continente questo è il motto che deve passare oggi l'abolizione degli ATC in tutta Italia non le istituzioni in Sardegna poi cosa ad aggiungere c'è poco ad aggiungere noi lo sappiamo benissimo che il CPA è in prima linea su tutte le battaglie non sempre abbiamo l'appoggio da parte di altre associazioni venatorie ma non è un difetto nostro sono loro in difetto non noi noi continueremo sempre verso la battaglia che è quella non solo dell'abolizione e non dell'abolizione chiedo scusa della non istituzione dell'ATC ma faremo anche le altre battaglie che ci sono in corso che ci sono in previsione che sono state già portate perché anche la storia di far ricadere la chiusura della penice della lepre per la mancanza dei censimenti ma questo è un altro capitolo che parleremo magari stasera non è colpa certamente dei cacciatori ma è colpa della regione che non ha svolto quello che loro dovevano svolgere non certo nostra grazie amici è sempre non ATC Pino Frau un grazie immenso per questa occasione di partecipazione lo devo al mio amico romano a Marco che sono i nostri messaggeri che puntualmente ci informano di tutte le evoluzioni di questa maturità che stiamo piano piano svolgendo da sportivo da cacciatore e anche da cittadino io mi chiamo Pino Frau e vengo da questa realtà che tanti hanno ribadito cioè quella della tradizione dell'etica perché mio nonno mio padre mi ha portato da vicino a conoscere le tracce sentire senti questa quello ragazzino quello è il gallo il polo sultano attenzione in mezzo al cannetto dalla mattina c'è una coscienza per l'ambiente straordinaria e io devo alla caccia devo dire che quasi il 100% di cosa sono adesso adesso vado a fare l'educazione ambientale sono diventato sono entrato nel corpo forestale ho continuato questa educazione a prevenire e a seguire questa trasmissione e oggigiorno che sono in pensione quando porto un ragazzino quando ho fatto con mie figlie con mie figlie e lo farò se devo volare con i miei nipotini che cominciò già a portarli a Montiagli guarda qui c'è stato il cinghiale che ha fatto ma cos'è queste cose bisogna trasmettere ma da dove viene viene da questo serbatoio umano dai nonni che tanto abbiamo ripartito dal padre dal nostro buon impegno a non trascurare perché questa è la nostra radice siamo in un ambiente magnifico che di giorno in giorno si trasforma purtroppo perché dobbiamo andare dietro agli interventi economici io da Terralbese non lo critico però in realtà effettiva la campagna è stata stravolta prima avevamo le vigne c'erano le sepi di fichi d'India un habitat meraviglioso perché io ci ho visto l'indo della perniccia e la tana del coniglio e su che rigedio c'è la 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 cinceallere e quant'altro non c'è più questo cosa ci sono reticelle paletti e questo è molto identificativo questo pezzo ma non solo verso l'aspetto fisico ma anche verso le coscienze perché quali sono i difetti non i difetti il vincolo più grande che noi dobbiamo sempre rapportarci con la coscienza la la sensibilità di come eravamo di come dobbiamo continuare ad essere esplicando in modo libero libero ciò che abbiamo sempre conosciuto perché ne abbiamo già tanti di vincoli ne abbiamo già tanti io quando devo andare a fare una passeggiata l'indomani il giorno prima comincio a pensare ah ma il periodo vado eh ma lì ho visto che l'altra volta per dire niente di male è stato protetto con la ricerca e non ci posso più passare ma non ce l'ho contro e questa è sempre l'esigenza dell'economia che va rispettata attenzione e sono uno di quelli che penso tanti di noi che quando vedo un muretto che è un po' dirocato io poggio il fucile e lo rimetto a posto ma non non lo sto facendo perché perché è il mio modo quello lì di rispetto e dire guarda se c'è passato quel signore là che è parcheggiato lì io buono ha rispettato ma noi lo siamo questo lo siamo perché siamo sempre ospiti di chi l'ha detto prima come ci spostiamo siamo ospiti di andiamo a trovarci ma perché dobbiamo avere paura se io incontro quel signore lì lì dietro la reticella di andarmi a presentare guarda sono Pino Frao vengono delle cose lì come va come non va cioè rappresentarci applicare un'etica che è nostra e non deve essere di nascosto oppure passare attorno se posso io mi presento mi conosco guarda che sono una persona come te rispetto e proteggo perché c'è una coscienza questa è la cosa più bella che noi cacciatori possiamo è così il pescatore ma anche l'agricoltore l'allevatore tutti i componenti di questo mosaico di cui giustamente dobbiamo interagire e lì stanno bene le intenzioni giustamente di chi magari la caccia non la frequenta direttamente però complimenta complimenta con le sue conoscenze no? e quell'articolo 14 io che ha detto il presidente ma quello va ampliato va 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 veramente applicato perché c'è un discorso di educazione di ambientale e soprattutto dell'attività sportiva che gli habitat ecco io consiglio molto di spingerla che noi dal nostro vicino guarda ma perché non rimetto un altro pezzettino di 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 oppure questa siepe va meglio così anziché l'altra questo perché ricostruiamo la casa di e la selvaggina giustamente ci ritorna io lo vedo nel mio cortile c'è un po' di tutto ma che sa bohita perché habitat conoscenza perché la conoscenza vuol dire rispetto e vuol dire valorizzarci tutto il nostro mondo incluso anche le proposizioni che vanno giustamente confrontate e migliorate scusatemi che mi lascio prendere sempre dalla grazie Pino qualcun altro vuole intervenire vieni vieni sei autorizzato ne hai facoltà salve mi presento sono Giampaolo dei Bangoni di Baunì faccio il cacciatore da 7-8 anni e l'infermiera ha tempo perso faccio di tutto per recuperare il tempo perso questo è poco ma sicuro una cosa non c'è niente da aggiungere sul discorso ATC perché è stato piuttosto esaustiva la discussione fatta finora non mi sento di aggiungere altro credo che sia piuttosto chiara la situazione piuttosto volevo lanciare un sasso un sasso anche forse un attimino più consistente sulle acque dello stagno della discussione che sono appunto già abbastanza mosse voglio dire stamattina abbiamo avuto l'esempio per che cosa per attirare un attimino l'attenzione su una problematica che secondo me è il padre di tutti i nostri guai in sostanza l'ambientalismo di per sé a mio avviso spesso e volentieri è uno strumento da utilizzare nei confronti di noi cacciatori ma non perché noi andiamo a caccia non perché noi preleviamo selvaggina nel territorio o quant'altro ma perché noi oltre che ad avere il cane abbiamo bisogno di un'arma quantomeno una forse più di noi ne abbiamo anche più di una questo secondo me è il padre di tutti i nostri mari ed è un problema mondialista aggiungerei perché non è un problema mica sardo italiano e neanche europeo ed è un 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 progetto che non è noto a tutti ma che è ben codificato e ben scritto che in tempi più o meno brevi più o meno lunghi hanno intenzione di raggiungere un livello di disarmo totale della popolazione del cittadino e fare la guerra la caccia è un modo e uno strumento per raggiungere questi obiettivi la 157 del 2000 del 92 ha raggiunto in buona misura questo questo obiettivo sono passati da 2 milioni io non ho i dati certi però stamattina ho sentito da 2 milioni a 700 mila circa voi fate caso ogni norma nuova che riguarda la caccia e le armi è funzionale solo e soltanto a far desistere noi appassionati della caccia ad abbandonare questa nobile direi attività pensate anche solo e soltanto alle succede il classico a volte anche false flag false flag attentato anche fasullo troppe armi in circolazione diamo un taglio ma questo anche a livello europeo voglio dire qualcuno spara dal balcone no 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 adesso no la doppietta che la zia aveva nell'armadio regolarmente detenuta no 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 deve fare l'abilitazione ogni due anni affinché sia riconosciuta il suo diritto a detenere l'armadio sapete avete idea di quante armi sono state rotamate e anche belle avete idea di quali sono le proposte di legge in maniera del maneggio delle armi del porto d'armi e quant'altro fatta tra l'altro io ho letto la proposta è stato incaricato il giudice Mori tanto simpaticamente amavo e amavamo perché è un luminare in termini in termini di armi di normativa e quant'altro lui ha preso l'incarico per stilare la bozza della nuova legge sulle armi e c'è da non dico trovarsi con i capelli dritti ma pelle d'occa e quant'altro cioè tachicardia o arresto cardiaco immediato perché ci costringeranno a modificare anche la nostra struttura casalinga dove deteniamo le armi dovremo avere il portoncino blindato all'ingresso e se siamo il piano terra le inferiore il sistema il sistema d'allarme e l'armadietto a norma c'è un tal dei tali non ricordo figurati tutta una serie di norme fatte apposta per desistere dall'avere il piacere di avere una o più armi in casa riflettiamo signori non è solo una questione di ATC l'ATC è funzionale a questo altrimenti qua in Sardegna e soprattutto in Sardegna noi non abbiamo bisogno di legarci al territorio ci siamo già nel territorio lo sappiamo tutti come ci comportiamo nel territorio sappiamo tutti che se ci sono pochi cinghiali o mezzo morti dalla siccità non si va a novembre si va a fine dicembre a caccia come è successo da noi perché nel nostro interesse tutto il resto è fuffa scusatemi il termine grazie scusate l'attenzione grazie Gian Paolo c'è qualcun altro? un volontario? no? il cuoco? maresciallo? no? non sei in vena oggi? dai Gian Piero buongiorno a tutti lei mi ha chiamato maresciallo però non sono qua in veste di maresciallo sono in veste di appassionato di caccia e socio della CPA no? ancora no niente io voglio voglio iniziare il mio intervento con la frase che ha concluso l'avvocato che mi ha preceduto che in pratica la Sardegna deve essere volana finché tutti gli aciti nel territorio nazionale vengono a sparire perché è questo? perché ritengo che la caccia sia un a livello sociale sia un diciamo un momento che altrimenti certe classi sociali non si potrebbero mai incontrare quindi il ruolo sociale ecco il ruolo di aggregazione sociale che riveste la caccia sia sottovalutato in questo momento perché stiamo prendendo schiaffi da tutte le parti soprattutto anche dalla parte politica e quindi la prima cosa da fare secondo me è portare avanti il valore che la caccia riveste nel sociale io forse più di qualche di un altro posso dire che i cacciatori oggi sono i veri ambientalisti del i veri ambientalisti sono i cacciatori perché nella mia esperienza professionale io ho 26 anni di servizio nel corpo forestale ho avuto modo di collaborare con i cacciatori Romano lo sa il ripopolamento di pernici che abbiamo seguito assieme nell'autogestita di Urasa adesso i cacciatori si stanno prodigando per combattere la peste suina io sono anche coeduttore nella provincia di Oristano per le specie per le specie nocive ma soprattutto un'altra cosa che qui non è evidenziato il ruolo fondamentale dei cacciatori negli incendi perché in pratica il cacciatore presente nel territorio è sempre un deterrente per l'incendiario a me è capitato fare dei servizi devo dire con immenso piacere con soci delle autogestite che toglievano il loro proprio tempo libero per salvaguardare il territorio e questo deve essere conosciuto a tutta l'opinione pubblica perché sono delle iniziative che secondo me come detto prima non sono valutate e quindi io dico questo che sì da qui deve partire il volano anche per il territorio nazionale però deve partire anche un messaggio che tutti dobbiamo dico dobbiamo apprezzare apprezzare il ruolo che ha il cacciatore nell'ambiente per il resto viva la caccia e viva il CPA grazie 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 Giappiero Mario è un ordine è un ordine grazie non sono preparato però due delle mie le dico allora io ho una compagnia di caccia non sono più capo caccia sono referente perché ho fatto un corso perché diciamo ce l'hanno imposto perciò diciamo sono un'autorità anche nell'ambiente venatorio io diciamo che durante il periodo di caccia grossa nel territorio dove io vado a caccia dove io esercito la caccia con la mia compagnia sono il custode il guardiano del territorio perché c'è bestiame c'è di tutto c'è una una vacca che diciamo ha partorito e avviso il proprietario un'altra cosa sono il guardiano il custode chi porto nel territorio non è di quelli che lavorano di notte il rispetto dell'ambiente c'è un'altra cosa è della proprietà noi cacciatori dice che noi siamo quelli che danneggiamo signori noi siamo i veri ambientalisti del territorio c'è una cosa dove io vado a caccia c'è una strada che arriva fino al lago sul fiume liscia voi dovete vedere a fianco alla strada le discariche che ci sono è vergognoso non ho visto nessuno nessun ambientalista che vada a dire signori guardate che ci sono delle discariche lì io l'ho fatto e a giorni ho chiamato ho già parlato con un giornalista devo scendere a fare le foto perché è vergognoso il cacciatore il vero ambientalista il custode del territorio signori ci stanno distruggendo adesso le ATC dove te ne vai con le ATC basta sul monte Limbare grazie al movimento sardo pro territorio che io diciamo mi onora di partecipare di essere uno tra quelli abbiamo bloccato il parco del monte Limbara ma era il sistema era quello di avere una strada dritta la Maddalena monte Limbara per godersela chi? i signori ambientalisti non i cacciatori noi grazie ad Alessio Pasella al movimento sardo pro territorio siamo riusciuti a bloccarlo poi c'è un'altra cosa adesso esiste il SIC il SIC è un'altra cosa ci sono delle regole precise che alcune cose non si fanno ve ne dico una fresca fresca da poco io ho ereditato una vignetta io sono figlio di poveri mio padre era un cacciatore diciamo lo sapete che per dare lo zolfo nella vigna ho dovuto frequentare un corso e adesso ho il patentino ma è incredibile ecco questo sapete perché ve lo dico perché è l'esempio pratico che noi non dobbiamo produrre più niente dobbiamo andare a prendere quello che ci importano le multinazionali che non si sa neanche da dove lo stanno portando in questo prodotto io diciamo che per colpa di Marco Pisano sono una specie di presidente provinciale CPA mi onora questo però adesso devo cambiare diciamo associazione venatoria perché non sono riusciti a far abolire quel decreto sorude si per il ripopolamento delle pernici prodotte da Bonassai Gollai e Monastir sapete che cosa hanno fatto a Bonassai adesso stanno riproducendo ripopolando i grifoni è importante il grifone invece a Gollai hanno già investito hanno già stanziato dei soldi sapete per che cosa per curare i rapaci i feriti e la povera pernice io dove vado a caccia grossa quest'anno ho alzato una sola pernice che lì era il regno delle pernici attorno al lago sul fiume liscia signori non posso rivolgermi ai signori politici perché sono sempre stati contro di noi e lo stanno dimostrando mi auguro che cadano subito questa classe politica che c'è adesso e che si possa portare la caccia veramente nell'ambiente dove è sempre stata e dove è esistita grazie qualcun altro che vuole intervenire? no? c'è Marco che freme dai chiudi ok a me l'arduo compito di concludere questa bellissima giornata non mi sono preso appunti non ho preso appunti io in genere vado a braccio perché quando uno sente un qualcosa quando ha una passione innata dentro credo che non serva a prendere tanti appunti perché gli appunti maggiori ce li abbiamo in test è anche vero che stiamo invecchiando quindi qualcosina possiamo scordarlo però vorrei dire due cose due o tre cose veloci parto dalla da dove dovrei concludere parto dai ringraziamenti per tutti voi per tutti i presenti ma non dal presidente nazionale Alessandro Fiumani che è la nostra massima carica a livello associativo ma voglio partire dall'ultimo cacciatore in senso di arrivo nella famiglia del CPA perché la CPA che si dica è una grande famiglia dove si discute si litiga si fa la pace si ridiscute però è comunque una grande famiglia da noi ho sempre detto e penso che l'abbiamo dimostrato le cariche sono per servire non per comandare e questo penso sia una grande una grande cosa siamo sempre stati a disposizione dei nostri cacciatori noi siamo cacciatori cacciatori tra i cacciatori le battaglie le battaglie Mauro ha accennato qualcosa sempre riallacciandomi i ringraziamenti dall'ultimo dei cacciatori arrivato in famiglia al presidente nazionale ringraziamenti importanti per la nostra squadra perché noi in Sardegna abbiamo una squadra nostra siamo è chiaro a livello nazionale però abbiamo un gruppo Sard una squadra che è composta da tanti fattori ognuno è protagonista nel proprio territorio e per le proprie competenze abbiamo dei responsabili cinofili dei responsabili del tiro dell'ambiente speriamo che arrivi oggi sono felicissimo di questo perché apro una parentesi in molto importante io non so come funzioni non ce l'ha spiegato però magari lo riprendiamo dopo pranzo perché voi dovete sapere sapere che in comitato faunistico ci sono anche tre associazioni ambientaliste oggi c'è la WWF c'è il gruppo di intervento giuridico e amici della terra che invece di con i quali non si può purtroppo dialogare anche se devo dire che grazie al nostro impegno e anche forse al nostro modo di porci di far capire le cose qualcosina hanno mollato faccio l'esempio su tutti noi da quando siamo in comitato faunistico abbiamo ottenuto di poter andare a caccia a febbraio con l'utilizzo del cane che è una grande conquista nel rispetto agli animali perché noi siamo riusciti a far capire ai colleghi non mi piace dire ambientalisti perché anche noi siamo ambientalisti ai colleghi che fanno parte della situazione ambientalista che se noi volevamo utilizzare il cane era per salvaguardare la vita degli animali perché se la legge mi permette di portare a casa 5 colombacci io senza cane ne devo abbattere 15-20 per portarmi a casa i 5 colombacci con il cane mi abbatto i miei 5 prendo me ne vado saluti a tutti ho fatto il carniere ho fatto il giusto prelievo quindi qualcosina siamo riusciti anche a scardinare però è importante che questa associazione ambientalista cresca e abbia la possibilità di mettere all'interno del comitato faunistico una persona con la quale si possa dialogare non certo appoggiare le stanze dei cacciatori si però siccome c'è un posto e questo mi onora e ti ringrazio di averlo detto però è importante che ci sia un'altra persona che venga ad affiancarci e a discutere le problematiche io credo che non mi piace mai parlare di noi e tessere le nostre lodie però penso che non si possa negare che il CPA abbia avuto il merito di aver svegliato gli animi di aver svegliato la voglia di combattere perché fino a qualche anno fa qua in Sardegna era calma piatta non si sapeva niente non si sentiva niente il cacciatore sapeva della caccia quando veniva pubblicato il calendario venatorio se sto dicendo sciocchezze smentitemi io sono del parere che mi ha già detto Sandro prima per poter combattere bisogna sapere bisogna essere informati bisogna istruirsi perché se un forestale se il maresciallo vi ferma e vi dice voi non potete usare il telefonino a caccia se voi non sapete come rispondere vi mettete nei guai o irrisolvibili però l'informazione è alla base di tutto ecco perché noi abbiamo fatto dell'informazione un cavallo di battaglia io molte volte mi limito anche a mandare l'email io ho una mailing list di 2000 contatti circa e non faccio altro che mandare email lo sa Alessandro ride molte volte arrivano mail anche a luna di notte perché perché è giusto che la gente sappia le battaglie si vincono combattendo combattendo e conoscendo le norme e credo che noi noi tutti della famiglia del CPA abbiamo il grande merito di aver risvegliato la voglia di lottare la voglia di combattere e se fino a oggi qualcosa siamo riusciti a bloccarlo penso che il merito sia di tutti di tutti noi devo anche dire che con qualche altra associazione venatoria abbiamo fatto delle battaglie assieme con la federcaccia dell'avvocato Sciarra che io ho è una persona che ho rivalutato un uomo di 87 anni ma è molto più giovane di ragazzi di ragazzi di 30 anni di altre associazioni una persona che ha ancora voglia di combattere ecco ma questa voglia lui mi ha detto Pisa perché mi chiama Pisa no? Pisa quello che sta facendo lei oggi io l'avrei dovuto fare 20 anni fa questo a me mi inorgoglisce mi fa capire che siamo sulla strada giusta questa è una cosa importante voglio concludere il mio intervento dando a Ignazio Tolu un riconoscimento dell'associazione questo Ignazio se lo metti nel tuo ufficio ci fa piacere so che sarà difficile è un altro pensierino e Alessandro che il presidente allora che Paolo mi ha chiesto la parola io vi saluto vi ringrazio per supportarmi e sopportarmi in tutte le battaglie grazie a tutti viva la caccia viva i cacciatori grazie 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 grazie